anche machine learning, tutte queste cose che si sente parlare da anni, però adesso siamo arrivati a un punto dove a livello tecnico, a livello della capacità di calcolo eccetera, queste cose che si poteva fare soltanto a un piccolo scala perché non c'era possibilità tecnica eccetera, oggi siamo arrivati a un punto dove possiamo cambiare scala e aprire tante opportunità. Quindi vedremo di sicuro il risultato di questo progetto ma secondo me in effetti è soltanto l'inizio da tanti progetti e da tante applicazioni basate su questo concetto di mettere insieme dati basate, secondo me è una buona idea di basarlo sull'LPS e il GSE, di stenderlo e di vedere il potenziale che c'è e appunto ne parliamo durante tutto il giorno. Quindi vi ringrazio ancora e speriamo di avere una bella giornata. Allora adesso cominciamo con la parte di introduzione al progetto a livello operativo e poi esicureranno insomma le presentazioni da parte degli speakers e quindi insomma Matt è praticamente il delegato dell'università Carlo III di Madrid, poi mi spieghi perché è Carlo III e non Carlo II ma questo poi ne parleremo a pranzo. E a seguire poi insomma abbiamo una serie di presentazioni puntuali che ci permetteranno poi di capire e arrivare alle conclusioni. Permettimi Matt prima di cominciare di salutare insomma i colleghi dell'Agenzia di Pagamento Lituana e un po' per rifarmi a quello che dicevano insomma i primi relatori. La cosa importante è che abbiamo messo insieme cinque paesi, quindi c'è anche la Spagna, adesso Matt rappresenta l'università perché c'è il coordinatore, ma avevamo insomma la società informatica, tra l'Agenzia dell'Agenzia di coordinamento spagnola che ha lavorato insieme a noi, quindi il FEGA, che è la corrispettiva di AGEA per capirci. Poi abbiamo avuto anche la Grecia con noi, l'Agenzia di Pagamento Greca e altri partner privati sulla parte della piattaforma, dell'infrastruttura, Enea, ma anche altri colleghi polacchi che hanno lavorato insieme per dire dove questi dati aperti devono essere fruiti. E per una fruizione, come diceva Toto Pierangeli, prima non è solamente un discorso per l'agricoltore, ma anche per altri utenti, e mi riferisco a ricercatori o a chi sviluppa policy, perché la policy non è solamente agricola, ma anche quella ambientale, come diceva Toto Monafo. Una cosa importante che è stata toccata all'inizio, ovviamente il prossimo budget della rivoltura sarà attaccato, ovviamente perché già è sceso rispetto alla precedente programmazione. Abbiamo una visione che ancora dovrà scendere, ma il nostro nemico sono tutti gli ambientalisti. Allora, la strategia di Open Ajax è stata proprio quella di mettere allo stesso tavolo l'ambiente e l'agricoltura. Per dire, troviamo punto d'incontro perché alla prossima programmazione ci sarà comunque una siregia che l'agricoltura aiuterà l'ambiente e l'ambiente aiuterà l'agricoltura per i sussidi. Quindi, a parte l'aspetto tecnologico di per sé, ma io ci vedo anche un aspetto un po' politico, permettetemi, anche se non lo sono, però questo ci permette di andare poi a sederci al tavolo dei negoziati per il budget della prossima PAC, insomma, con la stessa idea e con lo stesso approccio. Allora, Matt, puoi cominciare e poi... Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Today, we are going to introduce something about the project, the whole pictures, the main purpose for this initiative that is in charge for all the aging agencies who is in charge and participate in this. We have here the Italian partners, we also have here the presence for the Litron partners, but also we have the participation from the Spanish aging agency and also from the Opekepe, who is in charge for the Greece partner. So the presentation is more or less have these steps. The idea is to try to introduce the object and also presentate all the process that we started working, how is the data, how we have in the next steps to make sure to fulfill the needs, to publish and make a open and accessible all these data sources. Also, we have the...in detail to explain the integration process that we need to do it at the beginning because, as you know, we can...we can...we have a lot of different data sources, so we need to specify different strategies how we are going to harmonize or merge this data and transform this data. And the last point is just to emphasize the key issues that we occur or happen during the process and what is the next steps to fulfill or end this project. So, as you know, the main purpose for this project was try to publish the data. But this process to publish the data, how easy it was, how to start this initiative to try to make sure that the end data that we are going to provide to all the...the...the agent agencies have the change to be sure that it's accessible and it's harmonized. So, using this technology or this paradigm that is the open and open data, so we'll start with different data sources and also metadata that is provided for the different agent agencies. We'll start from formats, data, and we'll provide some kind of structure. We'll...we'll talk about the structure. We'll specify different language or schemas that provide a structure to be sure that in the next step, we'll define how we're the harmonized process. So, with these different data sources, we use the HRC model that was provided in the initial for the agent agencies, to ensure that provide all the concepts for...specify a one ontology that is in charge to make sure that all the different data sources will be harmonized. So, with this, we provide some kind of URIs and some structure in that case format RDF that is in charge just to storage in our database for URIs and be sure to share or open these sources. At the end, we provide this schema on ontology and some kind of software that is in charge to be sure that everyone wants to have some kind of query or extract the data. We just count for the same structure. So, more or less, this is our team that is working in this project. We have...from the Italy partner, we have CREA, AGEA, ENEA. ENEA is the HPC center that is in charge to provide us the hard stuff to make the calculations. From the Spanish partner, we have Grupo Traxa, and also he is in charge, or they are in charge of this team to represent the FIGA. The FIGA is the agent agency from Spain. Also, we have the Lituan partners, the NPA, the agent agency. And from the Greece partner, we have OPKP. Also, from the Spanish part, we have a data center or HPC center that is Skyler. And from the Poland team, we have the PSNC. So, the main objective from this project was during the strike of the classification for the different data sources, to specify what is the most important stuff that we want to explore. In that case, it was the IACS data, and also another metadata that was provided from the different agencies, taking account just the feature that defining in the different scenarios, what is the main purpose that we are going to explore using these indicators. So, as you notice here in this image, we have provided some kind of different layers. These layers allowed us to design the different network, how to interoperate the different data sources and the different endpoints. The endpoints are provided by the different HPC centers. So, we have one in Spain, another in Poland, and the other in Italy with the ENA in charge. So, with these different endpoints, with these different data sources, and with the different software components, we create different layers and some kind of rules. That rules is provided to you that have you continue besides where is the data. And at the end, the idea is with this data and with this structure and these different services, we define some three different scenarios to provide some kind of, and now we have the data and now where is the main thing that we need to explore with this data. So, the three different agencies is one from Spain, another from the AGEA and our colleagues in Opekepe, define three different scenarios to explore the data. In that case, we have agro-environmental data from the Opekepe, the Greece partner. We have some kind of data about the farmer's activity that is in charge from the Italy partner and from the impact from the erosion from the different parcels that is in charge for the Spanish partner. The whole process was hard, was very active to try to determine, define some difference. I had told you at the beginning, this data, how we are going to transform, how we are going to harmonize this data. So, in this process that is to start at the beginning in 2020, if I'm wrong, I don't know, correct me, Salvatore, but we specify different models and one of them, we try to collect and specify one unique vocabulary. One of them provide us to just classify different lists about the crops classification or use for the land use. And also, we implement two other ontologies. One of them was directly from the HGRC model. So, that's very important because with this base, we harmonize all the different data sources. And the last one was just to specify the difference indicators, how we are going to work, provide this, and how we are going to publish at the end. The whole roadmap that we specify here, this, the difference, milestones, and deliveries that we are providing different point of the time. And also, you can notice that we are in the last part of the project. The idea is to try to finalize, test all the software components and to be sure that this component fulfills the needs of specifying the main objects from each of the scenarios. From the publications, I guess I can tell you before, we provide three different endpoints that are published our data that is in transformation and is provided for the agent agencies. But also, we develop a web viewer. This web viewer is in charge just to extract or make sure to try to retrieve the data. This data that are storage and harmonized, more or less, as you can notice here, is just specifies some kind of layers, software layers, about the different campaign years that we provide for the different agencies. And we just specify another layers regarding to the land use and the graphic declarations. And we are also working to finalize the part of the indicators, the indicators that are part of the different scenarios. But more or less, we have here the different lists about the different components that are provided for the agent agencies and all the process that we made to harmonize. So the idea is for the software components, we have two different specific components. One of them is the web viewer that has their own specific ontology and services. And behind the scenes, we have a backend that is in charge of using different technologies, Python, Java, Dockers, and different administrative services that is just for transforming the data. And also, we made some kind of initiative to incorporate the European Commission services to log in the data that right now is just in the test cases and try to provide the union because the idea is provide this portal during the homepage that you just need to make sure to register using the services and try to access. So for the process to harmonize the data. So we have a lot of data, a amount of data, a big data, because the aging agency has a lot in with these two different main data sources that was the LPIS data and the graphic declarations. So with this data, we need to be sure to link it with the different vocabularies. One of them was the crops list. So at the beginning, we specified different lists provided for each aging pageant, but also in the European Commission, we have a lot more of these lists. For example, the LAO, the Eurostat list. So that is included also in these data sources that we harmonize and publish. We also have all the LPIS and graphic geometries, but also in the WebViewer incorporate some kind of WFC services that is just using the services that your special, your services that are provided for each of the aging agencies. So we have two different components that is also working at the same time just when you click and make some kind of requests. Yeah, and also we incorporate another initiative. For example, from Spain, they have another project that is important that is part of the scenario that is the forest inventory to be sure that is another initiative that is a linked open data to incorporate in our services using for the indicators. The list of this, we also incorporate the database from EUPO. EUPO is a database that specifies the biodiversity and the taxonomy from the different species that we are provided in the different countries about the different crops and species. So we make sure that transforming this data and publish this data using our ontology to harmonize the data. More or less, this is an example how we harmonize and extract the data from the EUPO. And now, here, I'm not going in detail from this part. This is the list of the indicators that are provided for the different scenarios. Most of them that are part from the AGEA. And the other is just from the biodiversity in charge from the ISPRA. We have the emissions and the livestock that is in charge from the OPKP and the Greece team. And from the Italian-Spanish partner, we have two more difference. And also, they collaborate for most of them, also giving out some data. But it's from the Spanish environment, it's more the forest inventory, how they have some kind of issues or problems during this inventory. So I'm the management stuff to try to make sure they are continuing from this inventory. Let me check here. Okay. So, as I told you before at the beginning, we had a process to be sure that all this massive data that all the pages provide to us is more or less harmonized and try to interpret it. Because remember, we have different data and different components. The idea was just prepare some kind of models. And this model provides to us ontologies. We work with GRC model that we provide an ontology. And we publish this ontology, too. And we create two more ontologies that is just to harmonize the data from the different groups and lists and also from the species and the indicators. With these ontologies, we create some kind of component that is in charge to receive the different data sources and create or specify a software component that is in charge is very useful from the end user because it's not technology. It's more friendly to receive this data and create the process to publish in different endpoints. In our case, we are using two different technologies. I think that was Virtuoso, one of them. And the other was Oracle, Spark, yeah, Spark, well, Oracle. That is more like your health specific, special graphic data. And from the another component is, as I told you before, it's a web viewer that have their own ontology and process to extract and present the data. And both the data are classified and also prepared just to fulfill the needs that inspire will light for all this technology. Here we have the model that we start working, the GRC. And with this process, we create some kind of software tools to add another concept that we are specified for each of the needs of the agent agencies. Remember, each agent agency treat the parcels and the graphic declaration for this in very different ways. So the idea is incorporate using this model, the needs specific that each of the agent agencies, and we create an ontology. This is the ontology and the process that we specify in the web viewer in the part. This contains our specific ontology and process to extract and prepare the data before it starts to the visualization. Here is another service that is provided by the FEGA, a minister of the union from Spain. They have public information about the graphic declaration for each of the parcels. So this is more or less the data source that we had to extract. It's a month data. It's about more than 10 teras of data. So we extract this process. That's the idea that we had the HPC centers. Because we have a lot of data, we need to portalize the process and publish in the different endpoints. So here there are more or less how it works the web viewer. So we have the different endpoints. We have a geo service that is the best way to try to clear the results from the user. And we have a database that's in charge us to make sure that they are compliant from the results from the endpoints and the viewer. The key issues that we more or less try to highlight here was that we have a lot of data. We need a lot of time to harmonize this data. And also we need to step up and be sure that all the patient agencies have their own problems to try to fulfill this and try to provide actually the end data from this project. Also we have a lot in making the research and try to specify one technology is impossible today. So the idea is to just summarize which is this technology that are at or make sure that it provides for us at the end of the project. So this hard work was just things from the agency and the other partners from the ISPRA, from the find the biodiversity indicators and data sources. So in that part is more or less the hard part to try to define. Be sure that everyone is agree with the defining model and also that provide the data. From the indicators, yeah, from indicators is a lot because in the background for these indicators, you need to specify algorithms, forms that is needed to be sure that all the different scenarios to try to give you this data and try to provide the calculation is works and in general. And from the GIS web viewer was hard stuff because today we don't have a free and open software component. So we need to make sure that our solution that we provide will be easy not just to develop. It's just easy to try to make sure the resources that we are consuming is not prepared just only for the HPC centers, for example, if we don't have any HPC centers, how we are going to deploy and work with this scenario. So we specify some technology and architecture components that provide that easy way to work using or not using HPC centers, endpoints. So that was actually the big experience because the work with using the different geometries that we have in the different endpoints and not do it because the time to cost or the time that we spend just to retrieve the data and print the data was a lot. So in that case, our experience using the data that we are publishing the endpoint using the geometries or using GeoSparkle services wasn't the most difficult part. and we decide from them the last cost to try to improve these results. We can stay there and then now we think the presentation of Philip from a GRC. Okay, I've been asked to make a presentation of the activity we have currently on the land use characterization for different policies. So as you already explained now, you have a lot of data, but in fact, there's still a need to produce data every year and maybe to produce other type of data in order to fulfill the request of the new policy. So in the presentation here, I think I will try to explain a bit what we intend to do. So, okay, that one, maybe most of you know us, what is the GRC? So the GRC is a Directorate General of the Commission and is a Directorate General that is a bit specific because this is the only one that is kind of research application and that is doing science research in support to the other DGs, to the other policies and also directly or indirectly to the member states to help implement different policies. So this DG, we are spread in five sites in Europe with the headquarter in Brussels. The biggest one is in Ispra, so this is the name of the village where we are on the Lago Maggiore and it has nothing to see with Ispra, the Institutio dell'Ambiente. There is always often a mistake when they say, oh, Ispra, but no, no, it's something completely different. It's just a village on the Lago Maggiore. So our group specifically used to be called MARS Unit and the group was GTCAP. So we've been working, in fact, since the introduction of the IACS with the member states and DG AGRI in order to develop and implement this integrated system. and with discussion on member states and AGRI, we are behind all the developments like the control with remote sensing, the development of the LPIS, LPIS QA, and recently also the check by monitoring. But then, as it has been recently explained, etc., we are currently really in a kind of big change at the level of the commission, etc., where we have the introduction of this new cap with the so-called new delivery model, with the idea that in that new frame, so we go away from compliance and we go for performance, but also it has been decided politically to give much more subsidiarity to the member states, which means that from the commission side, we still have some support, but not any more directly as it was the case up to now, where we were producing technical guidance in order to implement the cap. So our group also has to be restructured in order to adapt to the situation, and we are now divided into two groups. So there is still one group that is called QF4 cap, so from the name you know what it is. So out of all the cap to be implemented, you still have three elements, three quality assessments in the legislation on the LPS, GSA, and the area monitoring system, where the commission provide guidance on that. And in fact, Ferdinando here is in charge of that group. And then we have another group, which is called LUCAP, where we enlarge the activity we are doing on land observation for the agriculture, and now we want to do that land observation for all policies. So here you have the meaning of the acronym, so it's non-unit characterization for policies. So we focus on, let's say, non-unit management, so mainly LPIS, GSA, or what we call feature of interest for the monitoring, and we will work on the characterization both of land cover and land use in order to answer still to different policies, either for eligibility conditions, for certification, for the processes of this measuring, reporting, and verifying process. And also, if you produce data of quality, that allows you to do quantification of information. So as I said, we target now many policies, DGR, DG-Clima, DG-Agriculture. We are not any more strictly focused on CAP. And anyhow, in the development we are doing, we still try to do observation that allows member states to answer the request they have on the new delivery model or the performance target. So the idea is really to gain information by gathering information on land and also having data that are reliable in order to use them and reuse them after in the administration and also in the commission for many applications. So when speaking also about harmonization, et cetera, our group also is collaborating a lot on the discussion that we have currently on ISO, on land cover and land use, in order also there to define the skeleton where any kind of classification or map that can be produced everywhere in the world can be translated in the skeleton in order to let the community exchange those information. So why we focus on land unit, land management unit. So you all know that you have currently a whole bunch of new directive, new legislation. So the Green Deal, the European Climate Law, the Farm to Fork, the CAP obviously, the Digital Act. So all the elements that have been presented. And where there are a lot of requirements there is a request also to obtain results to improve the situation for the greenhouse gas, for the water, for many elements. But if you think of it, in the end what counts, it's what is done at the level of the field by the farmer or the land users. So what counts is the land cover, the land use, the activity, the services that you have at level of a parcel. So when you consider what is important for different policies, you can see here that you have a whole bunch of activities, services, land cover land use that you have to consider. So it can be crop diversification, it can be crop rotation, it can be some activities like tillage or no tillage. But you have also elements that are not on agricultural land, but have some interests like landscape features, landscape elements. And as you started to discuss also, the more it goes, the more it will make sense to group that information on agriculture with also forestry, etc. Especially when we start to think of greenhouse gas, climate law, where on LULUCF, for instance, you need to have information that comes both from the forestry and the agriculture part. And you have also other elements in town, like the special patterns also, so the shape, the network of those parcels, where here also you have a big importance of those elements, especially in the frame of biodiversity that has an importance. So from our side, what we try to do and work on is to work on methods in order to capture these different elements and also to monitor these different elements using different technologies. So Sentinel is the main one, but you have also geotags, VHR, aerial. We want to work also, we worked some years ago on drones, but we want to come back and reuse that technology also. And then using different layers, so mainly GSA LPIS, but combined, and this is what you started to do also with other layers, in order to produce much more information and derive more interested information. So the groups are, it's not all we, what we do in GRC, but okay, a bit of summary of what we want to do on land use. So it's mainly to work on defining protocols and method in order to collect those data and then put them together and reuse them in a common way. So, as I said, the idea is really to start from the parcel and also trying to identify maybe some services, some elements that are currently not yet really gathered, but so try to define methods in order to use them. And also working on the filling the gaps, so what is out of the IACs, so the area, agriculture area that are not declared, or as I was saying, semi-natural areas or forestry. So all of that, in order to produce data that can be the basis then after for reuse and share, to be used in modeling, in certification, in different applications. So if we start to go in details on the different way we can characterize and we can collect information, so here we have, let's say, what we were doing up to recently. So usually we were looking from up with imagery and we were having an idea of what's on the ground from the top. But the more it goes, especially when we start to speak about biodiversity services, et cetera, it's important to have also a vertical view, a field view of the information. As it is presented here, when you do the comparison of seeing by in 2D or in 3D, especially for the evaluation of the grasslands, so if you see from above, you don't see what is under the tree, et cetera, you don't have a full estimate of the real distribution of the different strata of the vegetation. So if you look in another way, you have a better estimation of those strata, and those values can have a consequence then after when they are translated in biodiversity potential or the application. So for us, we'd like to see then what type of tool we can use in order to register that information and try to do that also in a more automated way and not always being obliged to go on the field and do it. So here we have an example that we are discussing already since a year now with Agia, the so-called cases of Boschi pascolati. So here it's a specific case where when you see on the left-hand part, if you see from above, it's a kind of forest where animals are penetrating and can go there in order to feed. This is something that became eligible two or three years ago, I think, or maybe a bit more. But if you see from above, you don't have any information, you can't say anything about the status, is it eligible or not eligible. So we really want to work using geotags, so going on the field and try to determine what needs to be observed, measured so that and when, so that you can really have a say on the fact that it's really Boschi pascolati. So we will have to discuss that. So do you have to see only grass? Do you have to see animals? Do you have to see the evidence of animals or the right parts? And then how we can work on those geotags in more automatic ways, so trying to observe automatically on those images the element that you need to recognize in order to have a say. So for instance, upstairs, if you need to have the tree and on the grass, there are ways now to automatically determine those strata by segmentation. or if you need to see the evidence on the ground, you can also train model in order to recognize that. What is on use also now since three or four years with the introduction of checks by monitoring is also the temporal evolution of the information. So using the temporal profile of Sentinel information, both in optical or in radar sources. And in order to identify what we call the so-called marker, so try to see in the evolution of the profile some specific part of the phenology of the vegetation, recognize it automatically, and then have a say on that. So a lot currently has been done, for instance, for the detection of plowing, for the harvest, for the mowing. But you have many other practices that need to be investigated, and we will work on that. Like for instance, leaving the grass on the grassland for a while. It's part of the requirements that you can have now as part of the CAP. We want to also investigate more and more on the possible added value, especially of using the 3D information, so the DSM or DTM, because also there, the more we go with the request on climate, the request on environment. So for instance, and I will mention it after, we currently have some work with climate on these pitlands or wetlands. So obviously these are elements that will be located in low area, et cetera. So by collecting, adding the information on 3D, it's obviously something that allows you to work more efficiently on the determination of those areas. It can be of use also in order to characterize these 3D elements, like some landscape elements. And for that also, you have a bunch of tools that can be used. Then also, I mentioned it, and this part is really, with the gathering of those data from different sources, this part of working on the spatial patterns becomes more and more interesting and useful. So really, the distribution of the size of parcel, type of parcel, the diversity of parcel, is really having a big potential, once again, mainly for biodiversity, but all the policies. And, well, I mentioned here, we started to do some work internally. So using LPS and GSA information on, because now you have GSA that is in a digital format since 18, at least. There is a way to work on the query in GIS and see the evolution, the crop rotation, the diversity, et cetera. And here, we've been doing some zoning, for instance, where you could see monoculture. It's part of Australia. But by doing that, using that kind of information, you really start now to have a lot of information that can be used for administration of the land. So, for instance, here in the strategic plan, you can really identify areas where you already have some crop rotation in place, in some region, and some other areas, like here, when you have monoculture. So then it's area where you would prioritize now the incentive to change and go to crop rotation in those areas of monoculture. And, really, when you start to work on this use, you can see a lot of potential use for the administration. What I was mentioning also is the gap filling. So you have a lot of information currently in the IX with the LPS and GSA. But, as you can see, so this is an extract. This one is in France, where you still have many areas that are from agriculture but has never been declared. So, by using the information, the knowledge we have on the agricultural land with Sentinel, we can go and try to depict the information on the other one. And we have also colleagues in the GRC working on the automatic segmentation of parcels. So, when you don't have the boundaries, try to identify the boundaries and slowly filling the gaps. And with the idea, in the end, that you can have, and this is what I saw already here, started to build a system where you will manage the whole rural areas, and you will have information to really take decision, having the whole scope in hands. because, for instance, if we discuss back on the greenhouse gas, you have to decide on some parcels, some farmers, what they have to do for the greenhouse gas. It makes sense also to take into consideration the surroundings. So, if you have a lot of forests, et cetera, all around those parcels, maybe the agriculture parcels you have inside are less of priority than other areas where the surroundings will be more open. And for that, so, we work both on techniques to identify those areas, but obviously, and this is what I mentioned before. So, you start to have now, technically, the possibility with machine learning, with computer vision, with the capacity, with the cloud, to put in place a system where you can really work on a huge amount of data and automatize all these identifications where, in the past, you mostly had to go on the field or go for sampling with some imagery. So, also there, I think you know because you presented it also, this advantage of putting together different layers and make sense out of it. Obviously, our view is try to have LPS and GSA as the basis, so remaining with these 1,000 to 5,000 scale and trying to link the other database that have different scales, et cetera, to that one in order to build a system where you will manage your lands. So, we all go with these elements you already have, you already face, where you need to do some transformation on data, harmonization, et cetera. And just to mention that already in the past, we, in the GRC, produced this LPS multi-layer guidance that is already having that scope. So, providing technical elements on how should be the database in order to be compliant with the LPS GSA requirements. So, all this information is really, if you start to put that together and you saw it, you immediately start to gain knowledge on the lands, have information for decision support, and also use that information, as it was mentioned also, for the reporting now in the CAP, in the deliverable of the new CAP. We've been doing some work already with you on the no double counting, but with this idea. So, you see a lot of things ongoing. So, the target output, as I said, the idea is to work on methodology where you try to have information in which you have face, online use, and non-cover. And, as you can see here, you have, with those data, possibility then to reuse it and use them in many different policies and applications. There is a huge potential. But the fact is to work on the quality on data, the mapping of those data, and the quantification of those data. We do not start from nothing. So, as I said, we have this experience of 20 years working, and especially in the last years with the CBM, etc. So, we try to reuse that, the philosophy and the protocols for that, and especially in the frame of measuring elements, reporting, so it could be the output or result indicators, and also the verification, so the quantification of the quality of that information, so that you can have a say on the quality of the output you will provide. Also, the idea is to define protocols and best practices that could be used in the frame of certification. So, there is currently in discussion the certification for carbon farming. So, what element could be observed and then used to serve in a certification system? And also discussing all the ideas that we were having in the past, but come back now. Like, for instance, we could have upper rights, the way of thinking on the performance at farm level and comparison at regional level. So, a lot of things I was saying, but how, as GRC, we can put that in action, because it's not from our computer alone in GRC that we can do all of that. It's obviously by working with the DGs and the member states on some specific case study in order to see how, putting that into action, we can really help in having an actual implementation. So, currently, we have this project CEPLA. It's in collaboration with DigiClima, and the idea is really to identify and characterize the pitlands and wetlands with the idea to provide information to support the LULUCF initiative and the carbon farming. So, currently, it was mainly on wetlands and pitlands, but there is in discussion the second part, where it will be enlarged to carbon farming. So, not only pitlands and wetlands, but really carbon farming certification. We have discussion also with DGM, especially on the observation on grasslands as part of Natura 2000, but they start also to estimate, try to see what is out of Natura 2000. We've been contacted also another project on agroforestry, and obviously, we are here today to discuss with you the possibility to collaborate on Open Ajax with you on the member states. So, just to conclude, so we are a group really now focusing on research and development for the land characterization. So, in order to produce data, with the idea to find innovative solutions to capture this data, to monitor this data, online use on cover, and use tools that allow us to go really as much as possible to an automation of the processing. So, not having to go to the field, but being able to work on wall-to-wall information in the member states. And all the, allow the member states to answer different requirements they have. And as I mentioned, also focusing on gap filling. So, where information is missing, trying to find solution for that. And as I was saying, to do that we need to work with member states with some example. And, okay, today we are here also to discuss with you, listen to what you produce, and be open to any opportunities you can have. Thanks a lot. Thank you. Thank you. forse funziona questo funziona grazie Filippo, grazie Matt adesso insomma volevo aprire un po' il dibattito insomma qualcuno mi piacerebbe che facesse delle domande delle risposte perché parlare adesso mai più perché Filippo adesso trova un po' in pensione quindi cerchiamo di sfruttarlo adesso e quindi insomma anche Matt per poter poi i giovani che avanzano e quindi insomma quindi insomma se su questa prima sessione ci sono delle domande delle questioni o anche insomma delle idee non per forza ci sono delle domande insomma siete benvenuti Allora Claudio Giovanni Antonio Arzial volevo capire se c'è un riferimento di scala europea per quanto riguarda il miglioramento dell'LPIS rispetto all'evidenza che abbiamo che attualmente non riesce a restituirci come dire insomma un'analisi su alcuni tipi di vegetazione in particolare nel caso nostro ci interessa il castagno ma immagino in altre regioni gli interesseranno altre colture altre diciamo anche sistemi forestali ora per quanto riguarda specificamente il castagno da frutto sul quale stiamo facendo un approfondimento specifico abbiamo incrociato questa difficoltà oggettiva insomma di interpretazione dell'analisi è una cosa che dobbiamo curare sviluppare noi o è una sollecitazione che possiamo muovere per migliorare gli standard su questi specifici aspetti dell'LPIS che ci interessa soprattutto per le superfici che non accedono a politiche e sulle quali vorremmo ragionare poi in separato ok penso che questa domanda sia per Filippo io comunque vorrei dirvi c'è una cosa importante Matt non so se tu lo sapevi ma l'Arsial ha sviluppato un progetto nell'ambito diciamo della policy loro utilizzando la metodologia e l'idea di OpenAIAX quindi hanno fatto un database geospaziale sostanzialmente che poggia sul modello OpenAIAX quindi questo per dirti che già OpenAIAX ha dato i suoi risultati perché quando si finanzia un progetto comunitario lo sai a me piace che non rimane là come un progetto ma qualcun altro lo mette in larga scala e quindi insomma già abbiamo un esempio vivente che l'Arsial ha già replicato vabbè Morente ha già replicato diciamo la nostra metodologia in un progetto loro che è già operativo nell'ambito della regione Lazio quindi questo per dirti che disseminare comunque poi ci permette di insomma di data sharing le informazioni con gli altri ah ok due domande in un visto che ci hai chiamato in casa di Ferdinando sempre Arsial appunto stiamo cercando di fare cose simili a livello locale per questioni di pianificazione monitoraggio come gli obiettivi che tutti forse qui condividiamo e arrivo subito al punto cioè abbiamo detto inizialmente che i dati geografici non sono non danno problemi di condivisione però come dire per poter renderli veramente interoperabili devono essere caratterizzati da attributi appunto omogenei da armonizzare e qui abbiamo faticato tutti quando quando ha detto è duro lavoro duro lavoro per tutti ogni volta che prendiamo questi dati però per rendere veramente interoperabili devono essere condivisi almeno in tutta l'APA con un codice che ci permette di mettere insieme tutte le banche dati quindi i CUA delle aziende sono anch'essi indispensabili quindi i codici identificativi delle aziende sono anch'essi indispensabili e soprattutto le leggende per armonizzare avete citato Eurostat quindi due domande uno la condivisione dei CUA due le leggende per armonizzare avete citato Eurostat ma quando poi parliamo di land cover si usano altre leggende quindi forse per ogni uso dovremo costruire sistemi di conversione della lettura di questi dati ecco spero di allora Filippo ci sono ieri domande? non so se sono quello che può rispondere a tutte quelle domande a livello dell'Europa no non c'è nessun obbligo adesso che specifica che l'LPIS l'Ajax deve essere il base per tutto quindi c'è un regolamento che dà per l'agricoltura e perché comunque l'Ajax è stato costruito per quello e ancora per quello e con quello sono specifiche quindi uno la scala uno 5.000 e secondo me rimarrà così per un po' e punto noi quando adesso cominciamo a vedere questi sviluppi il consiglio che diamo visto l'esperienza che abbiamo e la potenzialità che c'è spingiamo un po' a dire i database invece di averli a 50.000 eccetera sarebbe buono portare tutto a livello Ajax dopo si chiama Ajax o no non più si copre tutto però questo lo ripeto non c'è nessun obbligo l'obbligo che c'è da un'altra parte è Inspire quindi questo è un obbligo di data sharing e tutto quello che riguarda l'ambiente in teoria adesso tramite questa direttiva Inspire questi dati devono essere messi a disponibilità e secondo le regole Inspire e anche lì sono degli schemi per ripresentare l'informazione dentro anche lì Inspire è un ISO è il livello sopra lì quello che dai sono il model language quindi dà le caselle per mettere le cose dentro quindi alla fine comunque le cose base e base c'è un accordo di avere tra le ente direi che c'è un vantaggio con la vegetazione perché a livello mondiale internazionale c'è il latino quindi ovunque siamo una pianta in latino anche se si chiama Totli e Potla e c'è il generoso spese che è il latino quindi quello consente di fare la raggruppa dopo noi spingiamo veramente a fare un corso completo tra l'Ajax più outside sono anche altre cose abbiamo Lucas quindi sono altri livelli che sono lì più a livello di sampling metodologie dove fai e anche lì sono delle metodologie e si può utilizzare anche quello per fare dei studi secondo me oggi come oggi Lucas va bene ma visto che abbiamo la capacità di fare il processing sarebbe utile fare il step in più sono questi studi da fare di vedere se c'è un bias utilizzando questo sampling e il dato completo anche lì c'è da fare un altro punto che voglio aggiungere perché lei ha menzionato le aziende lì è da vedere perché c'è anche tutta la legislazione sul GDP quindi deve vedere tra i stati membri eccetera il fatto che l'informazione in teoria deve essere anonima quando viene condivisa sono queste cose da prendere in considerazione non è si può fare però spesso non so se l'agrimento delle aziende eccetera sono diverse cose a mettere in moto in effetti all'inizio fa un po' paura ma è quello che c'è davanti a noi sul caso specifico del castagno non potrei dire da quello che capisco mi sa che è più lento che non è veramente nella Iax quindi però può essere utile appunto utilizzare come detto quello che abbiamo fatto con Sentinelle con l'evoluzione eccetera vedere se c'è un modo di riconoscere questi campi in modo automatico sia Sentinelle sia un po' con l'aiuto di Geotank diversi quindi utilizzare le stesse tecnologie e alla fine tutti lavorare su un schema un po' armonizzato il problema è che l'Unione Europea ha dettato uno standard si sente col regolamento del 2019 quando è quello che ha dettato che l'LPIS è lo standard di riferimento che non è l'unico hai ragione per l'agricoltura ma qualunque altro standard deve essere di caratteristiche equivalenti se non superiori quindi il problema di fondo qual è che dove non arriva l'LPIS se ci mettiamo a spendere soldi pubblici a livello nazionale ognuno di noi magari su scala regionale peggio ancora il rischio è che si fa qualcosa magari lo facciamo in quattro posti diversi senza neanche saperlo che però in qualche modo non risponde alle specifiche dell'LPIS quindi voglio dire in questo momento avremo degli standard già definiti dall'università per fare un lavoro sulle culture che l'LPIS non vede il problema dove sta chi mi dice che quello standard è l'LPIS equivalente o superiore e soprattutto che sia interoperabile con quello che state facendo voi perché il problema è che su queste vicende qui la cosa fondamentale è i pochi soldi pubblici che abbiamo spenderli bene e quindi però insomma io la risposta non ce l'ho non so la sua collega vuole aggiungere qualcosa no 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 prima il limite posso fare una una risposta facile non è non siamo noi la risposta la risposta facile è sempre dire la commissione infatti mette in moto quello che chiedono i stati membri noi lavoriamo in effetti con voi per appunto cercare di mettere a posto un sistema che concede di aiutare il massimo tutti e quello è un po' difficile perché lei ha un problema tra la regione Lombardia e la Calabria però noi abbiamo il problema tra quindi siamo a lavorare anche su 27 stati membri più giorni più quelli che chiedono quindi non è facile comunque le requisiti al limite dell'LPS non è che sono così grandi è un database GIS scala 5000 che ha delle domande specifiche tecniche quindi un position accuracy eccetera per il resto non è che le domande vengono più da Inspire altre direttive dove ma comunque l'idea generale di data sharing di mettere di trovare come Inspire tutti questi database su un portale va anche verso questo senso che se uno ha un'iniziativa in teoria più andiamo avanti più potranno andare su questo portale e vedere cosa c'è già in moto come funziona e con quello lavorare sì non c'è che c'è una metodologia per esempio se un'università ha trovato un modo di caratterizzare con Sentinelle queste querce benvenuti anzi devono condividerle perché forse potrà essere utilizzato per altri altri tipi non c'è non c'è che un c'è una regola e una ricetta grazie se posso aggiungere Claudio per risponderti insomma anche da un mio punto di vista è proprio diciamo l'esempio che abbiamo creato c'è un operai quando più amministrazioni si mettono seduti e hanno uno stesso obiettivo uno stesso progetto perché ovvio che il problema che tu poni è un problema del perché non ci sono sinergie del perché non ci scappiamo le informazioni del perché non sappiamo tu cosa stai facendo e cosa io sto facendo quindi il punto fondamentale è trovare un punto di contatto tra amministrazioni e questo è stato l'insegnamento che abbiamo appreso da OpenAex io mai mi sarei immaginato una sinergia con Ispra perché loro sono sempre insomma l'ambiente c'è qualcosa che lo tocca e invece quando ci siamo parlati abbiamo visto e no tu hai bisogno delle mie informazioni di scala uno a duemila perché tu sai che noi stiamo una duemila non una cinquemila che tu non hai io ho bisogno di dire due informazioni che io non ho allora che vogliamo fare ci vogliamo sposare e così se le regioni hanno delle idee io ho capito quel tuo problema certo no Claudio è chiaro quello che dici però se abbiamo una piattaforma comune a me non mi interessa che la piattaforma sia in Apea o sia in Isma o sia in Arsia la piattaforma sta in cloud poi tutti quanti contribuiscono quindi nel tuo caso c'è il castagnato me lo mette là sopra e gira all'interno come diceva Philip in una scala che riconosce a livello di risultati a livello comunque di commento comunitario questo diciamo deve essere un po' il modello da adottare e ti ripeto abbiamo fatto all'inizio un po' di fatica a trovare queste sinergie infatti anche anche Matt l'ha detto prima la loro agenzia pubblica dell'ambiente quando ha cominciato a capire che doveva collaborare col FECA che la parte agricola ha cominciato ma sì ma no adesso non ho capito che forse era meglio che anche loro ci univano quindi questo diciamo ci vuole tempo dobbiamo disseminare dobbiamo passare il messaggio è una volta circolato poi perché poi alla fine chi lavora sono gli esperti non è l'amministrazione che sta per aria quindi fra di noi ci dobbiamo scambiare le informazioni e avere delle idee comuni su una un ciloportale in questo caso che in share quando noi gestiamo i fondi comunitari si chiama data management share data management ma lì sono soldi e noi dobbiamo fare il suo modello dobbiamo insieme avere delle idee ma lavorare su uno stesso portale su una stessa scala quello che tu dici è un attributo il castagneto ok bene metterlo sopra perché magari a te ti serve la tua policy ma domani a me mi serve per pagare gli aiuti all'ambiente mi serve per monitorare l'ambiente ecco che poi abbiamo tutti i benefici di un lavoro fatto da un istituto X quindi insomma questo un po' è il modello non so se Matt ci raggiunge qualcosa a questo tipo di ragionamento ok Antonio e poi tu Antonio Giampaolo del CREA una domanda se avete avuto modo di valutare il livello di precisione di errore dei dati geospaziali nei casi studio che livello di precisione di attendibilità c'è rispetto ai dati amministrativi o alfanumerici del CREA o geometrico che abbiamo ricevuto. La idea è di usare a usare la bestia, in questo caso è il check file, che servono alle agenti, che trasformano in la besta forma che contiene tutti i punti riguardanti i parcels. In questo caso, abbiamo usato a usare i modi che non riesci a minimizzare questo errore, che trasformano. Il solo che, per me, era la più importante è non la precisione, ma non c'erano usare a usare o usare a usare la struttura. Perché? Perché abbiamo un po' perché abbiamo tutti i punti. Quindi, se stiamo in storia, non è un problema in storia, ma trattare a usare o 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 trattare, per esempio, noi usiamo molti dei nodi, dei codi. Quindi, trattare a trasformare questi punti geografici in questo ommologo o la parte del mappare dei nodi era un grande problema. Sì, una curiosità barra domanda per Filippo. Volevo sapere se ci sono dei ragionamenti in corso o se secondo te è fattibile riuscire ad integrare i modelli di previsione del PAC all'interno di questi diciamo sistemi di georeferenzazione delle informazioni. Cioè, considerando che GRC gestisce modelli per la Commissione europea per la valutazione ex ante degli effetti della policy individual farm model quindi che tengono conto del comportamento degli agricoltori e la curiosità che aveva se è possibile portare a livello spaziale gli effetti e gli effetti di valutazione. Provo di rispondere perché noi non siamo veramente il gruppo che si occupa di quello c'è un altro gruppo che lo fa. Quello che so è che adesso fino adesso e ancora per un po' sembra verrà basato come dicevo prima più su un sistema tipo Lucas quindi non è un wall-to-wall estimate calcolo dell'impatto ma l'impatto si fa utilizzando dati Lucas eccetera e si fa l'impact assessment ma io sono convinto in effetti che utilizzando questi sistemi ci sarà la possibilità di fare questo impact assessment con il wall-to-wall e quello che dicevo il problema è di fare la correzione dei dati giusti per farlo di avere confidenza su questi dati e una volta che hai confidenza quindi torniamo sulla domanda prima dopo quello lo metti dentro i modelli e i modelli di impact eccetera dopo possiamo parlarne perché lo vediamo sul climate change possiamo andare da più 2 a più 6 è un altro discorso per noi quello che cerchiamo già di avere è veramente i dati base per fare questi calcoli devono essere sicuri e quindi forse per tornare alla domanda prima non è che c'è una risposta a quello perché dipende un po' dai dati noi siamo abituati e infatti con i QA i quality assessment che sono lì il scopo di quello è di verificare infatti che i dati sono lì e qual è la fiducia che possiamo avere in questi dati che verranno prodotti per output result indicator tramite i sistemi ma lì abbiamo il vantaggio dove tra virgolette che partiamo da una dichiarazione quindi prima sappiamo già una superficie e cosa verrà fatto e poi il sistema il gioco consiste a verificare che quello che è stato dichiarato arriva alla fine con quella superficie e quello lo metti insieme e se il sistema è fatto bene avrai fiducia ai tuoi dati altre cose sono quando non sai su una superficie e lì fai una stima con sentinelle eccetera e lì devi avere dati dopo di suono di terreno per fare verifiche non è che abbiamo una risposta anche lì precisa su però il scopo in effetti che abbiamo è di sviluppare metodologie in cui abbiamo di più in più fiducia su qualità dei dati perché quello è un'importanza per l'output il result indicator metti insieme tutte le superfici e quindi devi sapere veramente se le superfici sono giuste e sulle attività che metti insieme per l'indicator se queste attività sono state fatte o no e se questo sei sicuro i dati che vai a dare saranno giusti e dopo quando si fa anche l'impact assessment quindi dovrai comincerai a fare il confronto tra un anno e tre anni dopo potrai avere un'idea e poter dire il cambiamento se c'è che vediamo è veramente un cambiamento o fa parte del margine di errore quindi dobbiamo lavorare su questo per essere sicuro che quello che vediamo o vedremo speriamo fa senso ok grazie Filippo allora prima di dare il via al caffè al coffee break l'elemento che vorrei aggiungere alla discussione il discorso Open Ajax è ovvio che noi almeno per quanto mi riguarda tu lo sai Fabio che io con i numeri in matematica avevo 6 per superare l'esame no? ero bravo sullo spazio sulla geografia quindi tra ricercatori insomma ambiente e agenzie per mestiere cioè non bisogna solamente rapportarsi al dato alfanumerico di cui voi tutti i giorni insomma siete maestri bisogna cominciare che è il che è il che ormai una cosa è vedere il dato alfanumerico cioè l'altra cosa è avere una view immediata di dove è il dato come elemento di output del progetto poi è molto importante poi insomma abbiamo anche modo di parlarne alle conclusioni però questo diciamo è un elemento perché le agenzie di pagamento fanno un altro mestiere i ricercatori insomma aiutano a sviluppare diciamo anche modelli quindi trovare questa sinergia secondo me è importante ma purché ci sia un approccio una motivazione di cominciare a diventare non dico esperti di GIS ma diciamo comunque avere una praticità nel vedere un dato più geospaziale che alfanumerico ok allora io direi coffee break abbiamo l'espresso Lavazza oppure belga adesso a Bruxelles quando ti dice coffee break poi ci presentano una tazza di acqua calda con un po' di non che cosa sia poi dentro e lo chiamano coffee break io adesso insomma l'organizzatore ci fa trovare il caffè a borbone è ancora meglio esatto quindi coffee break ci vediamo fra un quarto d'ora grazie 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 a tutti. 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 Siamo pronti per ricominciare la sessione? Chiamo il collega di Ispra, Marco, Michele, io mi chiamo da solo, Flavio e Fiorenzo. Grazie a tutti. Adesso abbiamo una presentazione di quello che ha fatto il team italiano nell'ambito del progetto Ajax. Ci scambiamo un po' delle informazioni per vedere un attimino se questa idea può essere poi replicata in un contesto di larga scala e nell'ambito poi non solo italiano ma come diceva stamattina la filosofia in un ambito di U-wide a livello europeo perché poi alla fine siamo quattro Stati membri, cinque ne mancano altre 22. Quindi insomma questo poi è un po' il modello che bisogna poi disseminare il virus e cercare di far entrare anche gli altri Stati membri in un contesto del genere. Io, se ricordo bene la scaletta, c'è la mia presentazione giusto? Inizialmente poi... Chi comincia? Ok. Allora, io mi presento alla fine, insomma. Sono a GEA, lavoro all'ufficio di Bruxelles e quindi insomma sono nato col Ajax, quindi tutta la parte del sistema che è il caso del controllo e sto morendo sui progetti che poi porteranno a sviluppare altre nuove visioni quali poi sono le sinergie tra varie istituzioni in un ambito diciamo geospaziale. Cosa abbiamo fatto noi come supporto a GEA al progetto nel team Italia? Sostanzialmente, ovviamente essendo responsabili per il regolamento comunitario del sistema integrato dove ci sono il controllo, all'interno di esso ci sono tutta una serie di informazioni geospaziali ma anche alfanumerici. Poi vi spiegheremo cosa abbiamo fatto su quelli alfanumerici. Il ruolo che abbiamo avuto ma soprattutto insomma l'idea di poter mettere insieme allo stesso tavolo diverse istituzioni che hanno un uso del suolo o comunque informazioni utili ambientali a questa diciamo fattispecie ma anche il CREA che poi ci ha aiutato a sviluppare l'analisi delle informazioni che abbiamo collezionato a livello geospaziale. E un ultimo punto della presentazione è che fare dopo Open Ajax da un punto di vista di AGEA. In sintesi il sistema di controllo perché poi alla fine quando parliamo noi di dati è ovvio che parliamo di dati che devono essere validati, certificati e comunque siano tra loro interoperabili perché diversamente quando noi andiamo a fare un pagamento sui sussidi agricoli facciamo dei controlli quindi non è basato il dato su una intervista come un po' diciamo stamattina il dottor Pietrangelo faceva riferimento alla RICA ma il dato di AGEA è basato su un dato controllato o attraverso foto interpretazioni o attraverso delle visite in luogo. Quindi diciamo il valore di per sé del dato è molto più accurato rispetto all'intervista. Io mi ricordo che mio nonno un giorno mi chiamò un agricoltore e mi disse che è arrivato da lui un esperto che voleva sapere la sua azienda agricola come era composto e mi fu chiesto che era uno dell'Istat e lui mi disse ma questo a me mi paga dei soldi? gli ho detto no non ti paga nulla vuole solamente sapere delle informazioni. Adesso a occhio ho capito l'informazione che lui consegnò a questo diciamo esperto dell'Istat fu che aveva due ettari ma quando in realtà ne aveva tre ettari. Quindi questo per dirvi che un dato basato su un'intervista non è mai un dato basato su un controllo o su un dato validato dal sistema. Alla fine come conseguenza qual è? Che la statistica non è esaustiva perché se mio nonno ha detto due ettari io immagino che quanti quanti mio nonno hanno detto che hanno meno di quello che in realtà posseggono. e quindi l'importanza di utilizzare nel sistema di creazione di un database geospaziale delle informazioni validate e verificate da un sistema che si chiama appunto in Italia il SIPA quindi sarebbe l'LPIS in inglese e un sistema basato sulla fotodisprudazione del suolo che in Italia l'AGEA esegue ogni tre anni. l'immagine ha una risoluzione di 1 a 2 mila come scala quindi siamo al di sotto del requisito minimo che chiede la Commissione Europea che è 1 a 5 mila e gli agricoltori attraverso questo SIPA dichiarano a livello geospaziale la loro parcella agricola cioè che cosa hanno coltivato su quell'appiazzamento. Quindi ci interesecando il SIPA e il poligono della domanda di sussidio che non è alfanumerica ma è geospaziale abbiamo l'informazione della pratica agricola che l'agricoltore ha eseguito in quell'anno N. abbiamo anche le informazioni della banca data animale come sapete in Italia è la BDN quindi è la banca ufficiale gestita dal Ministero della Salute quindi anche quello è un dato certificato perché ci sono dei veterinari che fanno dei controlli quindi non usiamo dati su intervista e infine il processo aiude con dei controlli in loco quando le immagini geospaziali non aiutano a fornire l'attributo di cui abbiamo bisogno e quindi inviamo sul campo degli ispettori affinché possano rilevare gli elementi che a noi servono per pagare i sussidio. e qui mi allaccio al discorso che faceva Philip stamattina prima del coffee break oggi noi facciamo dei rilievi attraverso un agronomo ok vai in campo poi riporta le informazioni in un report ma nessuno ha visto se lui è andato in campo e nessuno mai saprà che cosa ha rilevato in campo con lo strumento invece che Philip giustamente ha menzionato questa mattina con la geotag attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale abbiamo l'oggettività che l'agronomo è stato lì ma soprattutto che tipo di pratica agronomica è stata eseguita quindi anche questo diventa non più soggetto a un dato di input di un essere umano ma non eliminiamo il lavoro di agronomo perché ci deve andare comunque ma il dato è oggettivo perché viene attraverso tutta una macchina attraverso un algoritmo attraverso l'inizio artificiale come funziona la dichiarazione dell'agricoltore quindi sulla base del SIPA del sistema diciamo delle parcelle agricole foto interpretate l'agricoltore disegna la sua parcella agricola e quindi automaticamente abbiamo sia la geologizzazione di dove si trova la parcella ma soprattutto anche la superficie massima e leggibile di quella parcella perché è sempre costituito da una serie di macrousi quindi seminativi, frutteti, cigneti, uliteti eccetera ma anche delle aree che non sono ammissibili e mi riferisco alle strade, ai boschi, insomma alla corte della casa quindi insomma per avere un'area massima e leggibile dove comunque abbiamo già un'informazione di quanta informazione la superficie agricola può essere utilizzata dalla famosa SAO in Italia cosa che diversamente oggi è l'ISTAT che calcola la SAO ma attraverso sempre degli intervisti mentre noi abbiamo il dato oggettivo questo sistema poi viene messo a livello diciamo settoriale perché i sussidi cosiddetti in futuro interventi sono basati su vari diciamo elementi mi riferisco ad esempio un'aiuto a grano l'agricoltore mi deve disegnare che ha coltivato il grano in quella determinata porzione di terreno ma la cosa importante è che molte informazioni perché come diciamo aiuti all'agricoltura sono basati al rispetto della condizionalità quindi all'ambiente è ovvio che se noi non abbiamo un'integrazione con la banca dati nel nostro caso ad esempio di ISPRA dobbiamo sempre andare sul posto a verificare se queste condizioni di condizionalità sono state rispettate o meno invece potremmo integrare i due sistemi e non più fare un controllo all'agricoltore ma fare un servizio cioè dire guarda qui c'è un problema di erosione devi fare queste pratiche agricole e se le fai ci rischio di erosione scende da un livello massimo a un livello più basso ma sono io che so non c'ho bisogno che l'agricoltore me lo dica ma so cosa ho trovato ma soprattutto cosa lui o lei deve fare e se lo fai ti do il premio quindi cambia tutto il modo di ragionare delle polisi gli obiettivi dello scenario che abbiamo sviluppato all'interno di OpenAgex era quello di creare una piattaforma comune geospaziale con l'accesso delle informazioni e agganciati a degli indicatori che stamattina il doppio range ha fatto riferimento che sono gli indicatori della PAC che misurano la performance della spesa quindi nel nostro scenario abbiamo preso le informazioni dei pagamenti effettuati su alcune tipologie di interventi e dall'altra parte l'abbiamo integrati con le informazioni per l'indicatore poi di ISPRA ambientale che consentono poi di integrare il cittadino agricolo con quello ambientale il valore aggiunto è che abbiamo creato una forte cooperazione fra due diversi ministeri, agenzie e polisi ma che sono appunto integrabili perché ormai, come dicevamo stamattina agricoltura e ambiente o camminano insieme o perdono entrambi quindi questa è la lezione che abbiamo imparato io e Dottor Munafo abbiamo un po' visto questa visione e quando l'abbiamo messa a terra ci siamo avversi conto che effettivamente tecnicamente è possibile quindi poi la politica fa il suo corso ma tecnicamente questo è possibile infatti abbiamo avuto rispettivi vantaggi sia per le loro polisi che rimangono polisi ambientali sulla quale l'agricoltura non entra ma anche per le nostre polisi dove comunque abbiamo bisogno del dato ambientale per misurare la spesa e per monitorare gli indicatori questa è la lista degli indicatori che abbiamo utilizzato che Matt stamattina faceva riferimento che il caso di studio ha assegnato all'Italia quindi abbiamo sette indicatori che attraverso l'integrazione del dato del progetto spaziale abbiamo avuto la possibilità di rispondere a tutte queste informazioni che poi sono gli indicatori del monitoraggio della politica agricola comune dal 2023 al 2027 quindi la superficie agricola utilizzata è facile abbiamo preso il SIPA dove come abbiamo visto è un'area foto interpretata di tutte le superfici ammissibili quindi superficie massime leggibili cosiddetta MEA in inglese o MIA e Filippe MIA c'è una canzone ti ricordi quella che facevano i polisi non mi ricordo come il gruppo ma comunque esatti bravo poi abbiamo la saura portata al tipo di suolo non solo come superficie agricola ma anche al tipo di suolo quella coltivata su domande di sussidio di biologico e qui abbiamo un caso di specie perché abbiamo un dato alfanomere che abbiamo trasformato in grafica c'è così via per quanto riguarda il pagamento disaccoppiato c'è il pagamento accoppiato e l'indicatore poi sette che è materia di Ispra quindi sulla parte diciamo della superficie agricola del biologico avevamo un database alfanumerico che stava al Ministero dell'Agricoltura il cosiddetto SIB abbiamo preso il sistema catastale basato sul digitale abbiamo sull'apposto le formazioni del SIB all'interno del SIB abbiamo creato sostanzialmente alla fine un dato geospaziale il risultato è stato questo quindi il processo alla vostra sinistra abbiamo preso a campione la provincia di Foggia e lì ci sono tutte le richieste di aiuto fatte sul biologico in Italia nella provincia di Foggia ma questo potremmo esploderlo per tutta Italia quindi come vedete ad occhio visivo come view abbiamo già subito il risultato dove viene coltivato il biologico a Foggia e quindi non c'è bisogno di avere da un punto di vista alfanumerico questo risultato perché questo oggi è all'ISTAT eventualmente ma non questo perché questo è basato su dati diciamo di controllo io gli faccio vedere anche dove sono collegate e come policymaker mi posso porre delle questioni per dire ma perché qui non c'è il biologico perché lì non viene coltivato e quindi il policymaker si inizia a farsi delle domande del perché il biologico è concentrato sulla parte un po' nord di Foggia questo già una prima vista quindi non c'è bisogno di analizzare le informazioni ma anche se analizzasse avrei come risultato sempre un dato alfanumerico mentre così il valore aggiunto è questo risultato che è l'integrazione fra vari database che è l'integrazione fra dati geospaziali che sono appunto il SIPA e la parte diciamo della domanda geospaziale per quanto riguarda il metodo biologico sulla superficie agricola totale questo diciamo il giallo è la SAO quindi la parte della superficie agricola totale e il verde è l'integrazione del biologico quindi avremo come vedete ovviamente al centro di Foggia sarà la città quindi avremo tutte diciamo situazioni abitative anche sulla parte un po' sotto non c'è alcuna coltivazione ma all'interno della SAO abbiamo proprio a occhio a occhio nudo la visibilità di dove viene coltivato il biologico che non sarebbe altro che un'integrazione fra due layer che è il biologico più il SIPA più l'ELPS e quindi abbiamo anche un indicatore sulla percentuale calcolata rispetto alla SAO totale quindi la superficie agricola quanto vale a livello biologico il 6% così abbiamo fatto anche per quanto riguarda il pagamento dei sussidi disaccoppiati abbiamo preso sempre la stessa metodologia che vedete a sinistra i numeri di ettari che hanno chiesto aiuto a Foggia su un aiuto disaccoppiato che in futuro si chiamerà BIS ma adesso diciamo è stato basato sui dati correnti quindi arriviamo a concludere che visivamente su tutta quest'area qui è stato chiesto un aiuto a premio sul disaccoppiato la superficie è 37.000 ettari e 6,40 quindi questo per dirvi quanto aiuta l'aspetto open data l'aspetto geospaziale e qui io non vedo nessun problema di privacy perché qua non sto pubblicando né il COA che era non sto pubblicando neanche i boundaries insomma le geometrie degli agricoltori ma sto rappresentando un dato geospaziale a livello anonimo ma chi aiuta però insomma policy maker a chi fa attività agricola a chi fa attività ambientale per avere risposte immediate Stesso ragionamento abbiamo fatto sugli aiuti accoppiati per voi che non siete esperti di agricoltura dei sussidi l'aiuto accoppiato è un pagamento basato su una tipologia di cultura cioè tu fai grano ok hai un premio non fai grano non hai un premio avrai solamente il premio sull'accoppiato ma non sull'accoppiato quindi avremo che rispetto alla superficie disaccoppiata la maggior parte è stato richiesto un aiuto quindi quell'area dove è stato richiesto un premio disaccoppiato che abbiamo detto era 37.000 ettari 640 foggia la maggior parte è stato richiesto un aiuto accoppiato per 25.000 ettari e 955 quindi mancano rispetto alla superficie totale dell'aiuto disaccoppiato circa 10.000 ettari ma queste sono risposte che può dare appunto OpenAgex la metodologia a sinistra è sempre la stessa quindi ormai diventa prassi per aggregare tutte queste informazioni ma hai il risultato a livello visivo in maniera istantanea quindi quali obiettivi abbiamo aggiunto e raggiunto soprattutto quello di poter aprire i dati senza problemi di privacy senza problemi legislativi perché all'inizio quando stavamo al buio di questo progetto tutti al tavolo non facevano altro che dire ah ma la privacy ah ma non possiamo pubblicare ah ma andiamo in galera ah alla fine abbiamo sviscerato questo problema e dimostrato che effettivamente non era così perché quello a cui vogliamo arrivare è quello che poi anche Filippo stamattina diceva che queste informazioni possono essere sempre più evolute possono essere integrate con altri attributi che era anche il ragionamento che faceva Claudio dell'Arsle col Castagneto e con altre informazioni ma la piattaforma deve essere comune su una scala riconosciuta a livello di GRC e Commissione Europea che è una 5000 come minimo abbiamo creato una infrastruttura agroambientale perché abbiamo fatto una sinergia fra ambienti e agricoltura nell'ambito dei dati appunto che girano sul SIPA sulle PIS che è un dato di scala riconosciuto da un regolamento comunitario quindi inattaccabile da un punto di vista scientifico da un punto di vista di ricerca da un punto di vista di policy è ovvio che se lo sviluppo delle cose al di fuori dell'Ajax è attaccabile perché giustamente con tutto il rispetto degli universitari con lo sviluppo io sono professore ho detto che va bene ma chi l'ha validato? mentre il CGC e l'Ajax è scritto nel regolamento comunitario quindi è validato da sé è questa la differenza non so se avete colto la differenza ma penso di sì e quindi alla fine abbiamo anche concluso che questo strumento ci ha portato ad avere dei risultati che possiamo mettere a disposizione di una serie di stakeholders che appunto sono gli agricoltori i cittadini riferimento di Dottor Pierangi di questa mattina i tax payer i policy maker e io aggiungo i ricercatori che era un po' la battuta che ho fatto prima del coffee break che è una cosa è ricercare su dati alfonomenici un'altra cosa è ricercare su dati diciamo geospaziali come questi qua che immediatamente capisci dove poi deve andare a livello di dettaglio per ricercare una informazione aggiuntiva cosa ci aspettiamo come follow up di questo progetto allora sicuramente un comitato tecnoscientifico perché questo l'abbiamo raccontato noi abbiamo delle buone ragioni delle nuove motivazioni ma alla fine come tutti strumenti diciamo di ricerca è necessario avere un comitato scientifico e io apro come si dice in Italia Filippo butto la palla all'altra diciamo all'altro campo un comitato scientifico dove la commissione europea ha una rappresentanza perché per indirizzare e comunque avere poi uno stesso approccio perché io mi riferisco non tanto all'Italia ma mi riferisco all'Europa quindi quando andiamo a ragionare dobbiamo ragionare perché l'Italia fa parte dell'Europa e quindi un momento un po' più a livello di di non a livello di insomma paesi di provincia perché è fondamentale questo aspetto che poi ci mette a terra quello che c'è da fare dal punto di vista dei tecnici e quindi è importante questo per poter poi armonizzare tutte le informazioni geospaziali a livello di tutti i paesi europei ma questo aiuterà soprattutto per i due riferimenti che sono la politica europea nel breve futuro non so se avessi dovuto parlare di Green Deal e di Tefamato Fork forse si tutti quanti ma ci sono gli aspetti ambientali gli aspetti del del cibo non da poco su quelle due policy europee e quindi un sistema su esempio di OpenX può aiutare anche a rispondere a quelle due diciamo priorità che sono a livello comunitario che da qui a 2030 insomma dobbiamo fare alcune cose e questi strumenti ci possono aiutare a sviluppare le policy per arrivare a quei risultati perché diversamente realizzando dei dati alfanumerici o disegregati è impossibile andare a fare un'analisi di target accurata per rispondere ai fabbisogni dei diciamo cittadini che producono e consumano il cibo ma anche dei ritorni economici più equi per gli investitori e in questo caso sono gli agricoltori di tutta la filiera agroalimentare che ha di conseguenza anche un impiatto ambientale le opportunità sono tanti quindi come messaggio che lanciamo è mettiamoci a lavorare per mettere dentro anche gli altri paesi che non stanno in Europa quindi gli altri 22 cominciamo a buttare il virus ma non solo come Italia mi riferisco ai colleghi lituani tutta la parte del del nord dei vostri amici Estonia insomma Lettonia quindi ci vuoi mandare il virus di là e così e noi li mandiamo insomma al sud la Grecia sta con noi la Spagna e poi andiamo a chiudere il cerchio in mezzo con la Francia e con la Germania perché una volta che poi tutti partono anche loro fanno parte del sistema e questo possiamo farlo attraverso il know-how che abbiamo appreso grazie a Open Ajax vi ringrazio per l'attenzione e quindi insomma passo la parola a Flavio Lupia per quanto riguarda PICREA PICREA ok buongiorno a tutti Flavio Lupia Crea Centro Politiche e Bioeconomia sì Salvatore abbraccio la tua provocazione sì dati geospaziali sì anche noi li stavamo inseguendo da circa un ventennio quindi è stata una grande novità per noi quindi è stata un'occasione diciamo per cominciare a gestire a toccare con mano le potenzialità di questi dati e le opportunità in questa presentazione vabbè riprendo un po' quello che Salvatore ha già fatto diciamo quindi ha parlato dello scenario 1 degli indicatori che sono stati sviluppati sia per il monitoraggio della PAC che per gli indicatori agroambientali e poi vorrei spingermi un po' più sul lato concettuale di sviluppo diciamo dell'idea dell'indicatore e parlare delle nostre deviazioni come CREA perché praticamente siamo andati anche fuori dal seminato nel senso che poi ci è venuta fame e in sostanza abbiamo cercato di verificare e sperimentare ulteriormente l'utilizzabilità di questi dati in altri contesti diciamo in generale agroambientali e lo scenario 1 aveva l'obiettivo già introdotto quello di creare una piattaforma di condivisione di dati e dati appunto amministrativi e IACS provenienti da questi due dataset LEPIS refresh per l'Italia e GSA domanda grafica e dimostrare il calcolo di indicatori di performance per la PAC sostanzialmente con l'opportunità anche di tentare diciamo un'integrazione con dati ambientali la nostra deviazione sta in basso fare quindi ulteriori sperimentazioni nel riuso dei dati e nella modellazione agroambientale siamo partiti già nel tardo 2018 quando si parlava di proposta di poter immaginare in che modo un indicatore del sistema di monitoraggio della PAC poteva essere in qualche modo concettualizzato e come dire reinterpretato cambiando la base informativa di partenza storicamente si utilizzano i dati Eurostat a livello NAZ0 a livello di paese quindi dati standardizzati disponibili per tutti i paesi membri quindi sostanzialmente è naturale che l'indicatore venisse calcolato in quel modo il concetto l'idea di base durante la formulazione del progetto fu ma possiamo in qualche modo concettualizzare questi indicatori e verificare se è possibile ricalcolarli e con quali opportunità e limiti utilizzando questi dati diciamo amministrativi e inizialmente io avevo elaborato diciamo una struttura di indicatore come questa che vedete diciamo sulla sinistra mutuata diciamo dall'universo informatico cercando di capire appunto l'indicatore come potrebbe essere codificato definito misurato e diciamo prodotto diciamo le fonti dati che potevamo avere un giorno accesso e poi abbiamo avuto grazie ad AGEA e quindi abbiamo messo sicuramente in evidenza il fatto che c'è una potenzialità di riuso dei dati in maniera funzionale al calcolo degli indicatori con potenzialità aggiuntive che possono essere declinate sulla capacità appunto di incrementare il dettaglio territoriale quindi non più paese ma potremmo addirittura anche se vogliamo andare a livello subcomunale no? perché il dettaglio a questo punto è cartografico parliamo di scala 1 a 2 mila quindi abbiamo un dettaglio diciamo come dire geometrico molto spinto ma poi anche tematico se pensiamo anche a potenziali integrazioni tra il refresh e la domanda grafica no? quindi dettaglio tematico molto più spinto quindi maggiore capacità appunto di come dire codificare generare questi indicatori in maniera molto più precisa ma anche la risoluzione temporale può anche incrementare diciamo sicuramente abbiamo un dato annuale con la domanda grafica e la dimensione geografica lo ripeto ancora una volta diciamo di tipo gerarchico se vogliamo dalla nazione quindi dal paese fino al comune e tutto questo diciamo effettivamente sembra scontato sembra un po' diciamo diretto in realtà diciamo ha una sua complessità ha diversi punti diciamo come dire di difficoltà sicuramente non c'è diciamo una relazione uno a uno diciamo tra il dato statistico e il dato cartografico stiamo parlando di unità di osservazione totalmente diverse quindi non vogliamo assolutamente diciamo nasconderci rispetto a questi problemi concettuali di base naturalmente diciamo è un dato cartografico se parliamo di LPS diciamo è un dato wall to wall quindi può essere utile per avere una copertura diciamo totale del territorio se parliamo di domanda grafica possiamo parlare di un dato che ha una copertura geografica diciamo non dell'universo quindi sostanzialmente c'è un po' di punti deboli diciamo che non dobbiamo ignorare questi sono gli indicatori diciamo che erano stati già evidenziati da da Salvatore quindi il nostro focus è stato sì vedere fino a che punto potevamo calcolare alcune tipologie di indicatori di contesto e di output alcuni di questi anche in collaborazione con Isfra per quanto riguarda la parte di biodiversità questi sono gli schemi già mostrati da da Salvatore qui mi soffermerei sul fatto diciamo che questi dati diciamo seppur ricchi seppur entusiasmanti diciamo nascondono una complessità che deve essere in qualche modo affrontata diciamo quindi ci sono tutta una serie di problemi che grazie poi anche alla collaborazione di SIN e di Davide Rizzi diciamo che per fortuna erano come dire all'interno del dominio applicativo nel quale diciamo noi come CREA cominciavamo a muoverci hanno dato un enorme supporto e hanno aiutato diciamo a capire diciamo come superare alcuni limiti parliamo appunto di tutta una serie di attività di pre processamento che sono richieste quindi problemi geometrici topologici che vanno affrontati non vanno assolutamente ignorati quindi un dato che non può essere utilizzato diciamo almeno nello stato attuale così com'è quindi richiede una forte diciamo pre elaborazione con esperti di dominio non lo possiamo fare noi diciamo così per la prima volta una volta che apriamo diciamo il dataset quindi è importante sempre il concetto di sinergia e cooperazione e qualcuno di voi si dell'Arsia aveva anche sollevato il problema del matching no? cioè come facciamo a definire le leggende no? in maniera funzionale al dominio operativo nel quale andiamo a collocarci ad esempio qui in questo indicatore sull'area agricola utilizzata avevamo bisogno di declinare le superfici agricole in diverse tipologie di macro categorie come ad esempio i seminativi prati permanenti e pascoli e le colture permanenti e qui quindi c'è un lavoro manuale di analisi semantica quindi capire fino a che punto la definizione della leggenda ha una sua come dire coerenza di definizione con il dominio Ajax quindi rispetto al dominio Eurostat e quindi naturalmente questo è un lavoro manuale di analisi e che porta alla creazione di queste tabelle di matching che ci aiutano poi a come dire a riutilizzare il dato a declinarlo come dire a incanalarlo verso diciamo nuove tipologie funzionali al dominio applicativo l'output Salvatore forse non l'aveva chiaramente sottolineate è un nuovo strato geografico che non esisteva prima che viene fuori quindi dal dall'integrazione di queste come dire tabelle di matching dati originali Ajax e dati amministrativi quest'ultimo passaggio ci consente poi di come dire ricalcolare gli indicatori sui diversi livelli geografici amministrativi italiani il discorso diciamo non è soltanto di tipo amministrativo ma possiamo anche estendere a livello anche di biofisico se vogliamo geofisico se parliamo anche di altre aggregazioni territoriali o unità territoriali quelle potrebbero essere i bacini idrografici quindi la potenzialità di declinare diciamo questi indicatori diciamo non solo sulla base amministrativa ma anche su altre unità territoriali e questi li abbiamo già visti questo è la parte biologica che ha già illustrato Salvatore e mi sposto diciamo sulle nostre deviazioni del CREA diciamo che erano un po' diciamo come dire indirizzate a verificare fino a che punto altre nostre attività potevano come dire beneficiare dall'utilizzo di questa nuova tipologia di dato amministrativo che ci sembrava molto interessante abbiamo fatto un test come vedete in questo caso di modellazione idrologica quindi cercare di dimostrare se un uso del suolo particolarmente dettagliato proveniente dalla fonte amministrativa è opportunamente preparato poteva diciamo fornire un valore aggiunto nelle attività di modellazione eco-idrologica non so se conoscete questo software che si chiama SWOT Soul Water Assessment Tool che consente in qualche modo di modellare il processo idrologico che avviene all'interno di un bacino utilizzando appunto tutti gli afflussi ed efflussi che sono all'interno e quindi poi simulare misurare la quantità e la qualità delle acque nei punti di chiusura del bacino come potete immaginare questo è un processo che viene fortemente condizionato dall'uso del suolo quindi tutti questi fenomeni diciamo possono essere in qualche modo interpretati e come dire osservati in maniera sempre più precisa se abbiamo un uso del suolo dettagliato come quello derivabile da fonte amministrativa vedete sulla destra diciamo questo tentativo di integrazione tra le LPs quindi il refresh AGEA che aveva 76 classi per un'area di studio che abbiamo diciamo individuato la GSA aveva 143 classi abbiamo fatto un lavoro di integrazione di analisi delle corrispondenze per generare diciamo un insieme di classi SWOT che sono le classi poi di uso del suolo che utilizza il modello per generare le simulazioni il test è stato effettuato vedete qui sempre nella zona di Foggia diciamo su un bacino idrografico del torrente Cervaro e abbiamo messo in evidenza che effettivamente un uso del suolo così dettagliato non era comune diciamo nelle nostre sperimentazioni precedenti partivamo da carte di uso del suolo a scala diciamo meno dettagliata sicuramente questo ci ha dato la possibilità di come dire evidenziare come usi specifici potevano forse in qualche modo condizionare diciamo questi parametri di quantità e qualità delle acque questo ci ha portato anche poi anche a riflettere sul fatto che strumenti di questo tipo possono essere anche utili per creare degli scenari no? quindi scenari di cambiamento di uso del suolo dettati da chi? dal cambiamento delle politiche possono diciamo generare delle situazioni di miglioramento o di peggioramento in termini di qualità e quantità delle acque diciamo questi sono interrogativi e scenari che sono sicuramente diciamo ipotizzabili e testabili ultimo esempio che porto è un'altra sperimentazione fatta anche in questo caso integrando dati di provenienza ISPRA quindi Agenzia Ambientale Italiana e l'obiettivo era dimostrare se era possibile studiare appunto le relazioni tra inquinanti nelle acque superficiali e l'uso del suolo agricolo quindi l'uso del suolo agricolo ancora una volta di estremo dettaglio generato attraverso l'integrazione di LPs e domanda grafica stazioni di monitoraggio delle acque in Puglia fornite da ISPRA con il dettaglio degli inquinanti misurati delimitazione dei bacini idrografici dove erano localizzate queste stazioni un approccio molto semplificato in questo caso quello cioè di creare dei buffer cioè delle aree circolari di una certa estensione intorno alla stazione di monitoraggio per far cosa? per catturare la varietà di usi del suolo agricolo che circondavano diciamo la stazione di monitoraggio e quindi di fatto il punto diciamo di prelievo dell'acqua sostanzialmente un'analisi delle corrispondenze un'analisi statistica delle corrispondenze ha consentito di mettere in evidenza come alcuni inquinanti derivati probabilmente da uso di erbicidi erano particolarmente presenti nelle zone in cui si aveva ad esempio una più alta concentrazione di culture di un certo tipo quindi questo in qualche modo metteva in evidenza il fatto che esiste effettivamente una relazione tra la strategia aziendale quindi il management delle colture con l'uso in questo caso di diserbanti è il sottoprodotto diciamo la molecola che viene ritrovata diciamo più a valle diciamo probabilmente nella rete idrografica quindi questa è una potenzialità che è stata messa in evidenza ci sono state fatte anche un paio di tesi su questo argomento con grande soddisfazione una delle tesi è stata tesi vincitrice della Master Thesis Competition 2023 fatta dalla Commissione europea il titolo è quello che vedete lì in alto e nasce proprio da una collaborazione con CREA e Università di Bologna chiudo allora sottolineando diciamo i punti più rilevanti diciamo di questa esperienza da parte diciamo della ricerca CREA sicuramente quindi abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di testare questa tipologia di dati confermiamo quello che diciamo molti ormai dicono da tanto tempo diciamo è una fonte amministrativa di assoluto rilievo che fornisce dati spaziali e alfanumerici è una delle migliori diciamo a livello europeo quindi è un dataset ad alto valore aggiunto il riuso di questi dati come avete visto ci ha consentito di dimostrare la calcolabilità di indicatori che sono utili appunto per sviluppare sistemi di valutazione spaziale delle politiche quindi abilitando anche all'integrazione con altri dati i dati ambientali lo ripetiamo più volte e sicuramente hanno un valore aggiunto rispetto forse di più rispetto ai dati statistici classicamente utilizzati per misurare per calcolare questi indicatori sulla politica agricola comune alcune diciamo riflessioni aggiuntive naturalmente occorrono delle strategie ancora una volta per incoraggiare l'apertura dei dati l'armonizzazione e l'interoperabilità e dobbiamo facilitare la cooperazione fra i produttori di dati ed utilizzatori quindi diciamo questa esperienza positiva che abbiamo avuto sicuramente va in quella direzione quindi è impensabile utilizzare da soli questi dati è importante avere sinergia tra il produttore e l'utilizzatore e dobbiamo noi come ricerca sicuramente spendere anche un po' più di energie per capire ancora meglio qual è il sistema di produzione dei dati Ajax per avere ancora più chiara ed evidente diciamo la potenzialità e anche i limiti di utilizzabilità di questi dati e il complesso processo di pre elaborazione che bisogna sviluppare per facilitarne il riuso e poi diciamo questo è un come si dice è un teaser per Fiorenzo naturalmente bisogna ragionare su infrastrutture e metodi di gestione di data governance perché qui nell'esperienza di Open Ajax abbiamo fatto lo sforzo enorme di produrre un grande volume ma era soltanto per il 2018 quindi immaginate cosa significa appunto parlare poi di dati multitemporali quindi sicuramente c'è la necessità appunto di dominare appunto queste complessità in qualche modo e i centri HPC sicuramente possono giocare un ruolo in quella direzione vi ringrazio per l'attenzione allora io direi potrei fare domande alla fine della sessione adesso insomma abbiamo a Michele c'è Marco di Ispra e poi Fiorenzo in Enea se siete d'accordo ma già come insomma primo feedback Flavio appena abbiamo aperto i dati come a GEA gli è venuto l'appetito e quindi non ci siamo solamente soffermati sugli indicatori di Open Ajax ma siamo andati anche oltre ecco l'importanza perché da lì per fare una battuta quando tu monti la panna insomma poi la panna viene su ma la devi prima girare tante volte quindi ecco l'importanza per esempio di Flavio che ha virato su altri diciamo scenari questo diciamo è il primo obiettivo di quando apri le informazioni geospaziali anche se parte da un indicatore poi diventano altre idee perché poi quello è il ruolo dei ricercatori che vanno poi insomma al di là e quindi vengono fuori altre idee e altre idee e questo ci permette di crescere da un punto di vista diciamo anche economico e sostenibile allora Michele ho direttamente Marco insi tu e poi Marco forse andrà a chiudere grazie sì grazie Salvatore riperto proprio da queste ultime cose che diceva Salvatore perché secondo me sono centrali quindi anche gli esempi che ha fatto vedere Flavio prima insomma sono secondo me un esempio un chiaro esempio di quello che si può fare che si deve fare quando noi parliamo di dati di condivisione di dati e quant'altro accennavo stamattina Ispra un istituto nazionale che coordina comunque un sistema composto da 21 agenzie delle regioni e province autonome per la protezione dell'ambiente ha vari compiti ma la legge istitutiva mette proprio al centro dei suoi compiti istituzionali sia come istituto che come sistema proprio quello di raccogliere informazioni geografiche territoriali e ambientali e renderle disponibili in forma libera interoperabile quindi è la legge stessa che in qualche modo ci guida in questa direzione quello che storicamente si è fatto che stiamo provando a portare avanti è innanzitutto rendere accessibile queste informazioni questo patrimonio di conoscenze al pubblico qui è un esempio della pagina del portale istituzionale del nostro istituto che cataloga un po' il mondo delle informazioni ambientali in alcuni temi permettendo di accedere alle varie informazioni le varie banche dati da quello che dicevamo che abbiamo visto oggi che accennavamo stamattina è chiaro che non è pensabile almeno ad oggi insomma di pensare all'ambiente e al dato ambientale come un'unica categoria di dati stiamo parlando di un mondo di informazioni di ambiti tematici di frammentati sia per competenze che per temi di analisi che quant'altro quindi ad oggi l'obiettivo se vogliamo astratto teorico ambizioso di avere una banca dati sui dati ambientali non è alla portata ma quello che è alla portata è sicuramente quello di rendere però quanto più fruibili accessibili tutte queste informazioni tutto questo patrimonio di informazioni noi abbiamo provato a farlo secondo vari filoni di lavoro da un lato la fruizione da parte del pubblico che è stato richiamato più volte è un elemento fondamentale quindi ad esempio qui cito un recente lavoro che come istituto abbiamo reso disponibile che si chiama Ecoatlante che permette di seguire in un viaggio diciamo teorico virtuale nell'ambiente italiano una serie di ambiti tematici approfondendo una serie di ambiti tematici che poi permettono di avere una prima panoramica una prima visione molto divulgativa molto accessibile alle informazioni ma che permettono poi di andare in profondità fino da qui anche il nome Ecoatlante a permettere una condivisione di tutti i dati territoriali geografici che noi giornalmente acquisiamo questa condivisione questo accesso a queste informazioni permette come ha fatto vedere benissimo poco fa Salvatore un'analisi geografica territoriale che è fondamentale per approcciare una qualsiasi tematica come quelle di cui parliamo oggi ovviamente ma ci siamo spinti un po' oltre perché poi quella come dire quella possibilità di integrare i dati di trovare nuove informazioni dall'integrazione dei dati è alla base non soltanto dei ricercatori che in qualche modo per natura sono tenuti a cercare ma un po' di tutti questa è un po' una piccola battaglia che noi abbiamo provato a portare anche dentro al nostro istituto perché la logica spesso che guida il nostro lavoro di chi elabora dati produce informazione è spesso quella di dire io ho i dati ti spiego io come leggere questi dati come utilizzarli non provare a cercare di altre strade a mettere insieme i dati e il PIS con i dati delle stazioni di misura della qualità dell'acqua te lo dico io se ha senso o no l'approccio non è più questo lo dicevamo stamattina l'approccio deve essere completamente stravolto i dati sono messi a disposizione i ricercatori si mettono lì a cercare a ricercare a trovare le sinergie le correlazioni fra i dati ma chiunque può tirare fuori nuove informazioni e non sta a me dire come come fare e come non fare io ti dico quali sono le limitazioni dei dati ovviamente sì se io ho un dato a scala 1 a 100.000 non mi metti a fare l'analisi che ha fatto vedere flavio prima sul bacinetto del foggiano di pochi chilometri quadrati e quindi ti dico che quello è una limitazione ma nel dato non nelle possibilità poi di utilizzo e quindi quello che noi abbiamo provato a fare è quello di rendere disponibili tutte queste informazioni con un sistema che si sta crescendo giorno dopo giorno viene alimentato viene incrementato e quindi permette di fare queste sovrapposizioni sia attraverso sistemi diciamo di tipo web come questo che vediamo qui che permette di sovrapporre informazioni di vario tipo sia quelle acquisite da Ispre e dall'SNPA sia quelle potenzialmente rese disponibili attraverso un sistema di servizi di dati integrato che permette di mettere insieme quindi i dati ambientali con i dati agricoli con i dati di altri soggetti che in qualche modo poi permettono all'utente chi che sia di interagire attraverso diverse modalità quindi una web app come quelle che abbiamo visto adesso rapidamente scorrendo permettono di avere un accesso libero a tutti comprensibile accessibile diciamo di un taglio che vada al divulgativo ma non solo insomma fino ad approfondimenti successivi ma poi attraverso un sistema di servizi di rete sia quelli legati diciamo al tradizionale mondo di spire quindi servizi di ricerca di scaricamento di visualizzazione dei dati sia quelli legati al linked open data e quindi che permettono poi elaborazioni tipo quelle che abbiamo visto anche oggi chiaramente i dati sono al centro di questo sistema e devono essere per loro natura liberi e interoperabili come ci richiama la legge stessa i metadati sono fondamentali perché senza i metadati quelle che sono ad esempio i limiti dei dati stessi che richiamavamo prima ma in generale un po' la carta di identità dei dati stessi non è possibile fruire di questi dati in maniera appropriata quindi quello che noi stiamo facendo è mettere a disposizione in queste varie categorie di servizi i nostri repository i nostri dati è quello di costruire poi anche un sistema integrato di ricerca che permette quindi di accedere alle varie informazioni disponibili presso il nostro catalogo di dati o presso cataloghi di altre amministrazioni qui vediamo un esempio di come poi da una ricerca si accede fino al singolo servizio e quindi poi al dataset e eventualmente al fatto di portarsi in casa perché poi alla fine molte volte siamo costretti comunque nonostante un mondo di reti interoperabili e quant'altro portarci in casa il nostro dato ma sempre partendo da servizi di questo tipo vi faccio vedere un altro esempio perché come dicevamo prima il mondo dei dati ambientali è variegato e quindi oggi si è parlato dei dati legati alla biodiversità e questa è una piattaforma un network nazionale della biodiversità che Ispra gestisce da alcuni anni che fa nel campo specifico della biodiversità proprio questo lavoro di raccolta di integrazione di dati e che vengono poi messi a disposizione per la fruizione libera aperta interoperabile attraverso ad esempio tecnologie come queste che vedete qui in questo esempio e che permettono quindi di liberamente di accedere integrare creare interrogare modificare questi questi servizi facendoli scorrere e leggere utilizzandoli con qualsiasi altro sistema ad esempio anche nella loro forma geografica e quindi io posso utilizzare un qualsiasi client di questi dati in qualsiasi sistema anche aperto gratuito e in rete posso costruirmi il mio sistema di analisi quindi dal dato che viene raccontato nella mia mappa nella mia story map come vengono chiamate fino a un sistema realmente interoperabile che mi permette poi di integrare in miei applicazioni specifiche i dati e costruire dei servizi integrati che possono a loro volta essere la base per altre applicazioni per altri servizi e quant'altro ISPRA ha costruito e realizzato alcuni anni fa una piattaforma specifica poi per i linked open data in cui sono messe a disposizione poi alcune entità proprio secondo la logica dei LOAD questo è un esempio di come poi attraverso questa piattaforma si riescono anche a mettere a disposizione dati data set e servizi di rete conformi alle regole della direttiva ESPIRE questo è l'esempio delle stazioni di monitoraggio ambientali quindi un esempio come ho fatto vedere prima di dati che possono essere poi facilmente integrati ad esempio e confrontati con altre informazioni la base territoriale sono d'accordissimo con quello che si diceva prima è fondamentale senza una componente geografica dell'informazione il nostro dato perde completamente di senso e di valore quindi non possiamo non fare riferimento sempre a una base territoriale un'informazione territoriale ad una scala adeguata perché ricordiamoci che la scala è fondamentale che la scala non è soltanto il livello di dettaglio geometrico ma è un po' tutto quel concetto legato alla precisione accuratezza geometrica e geografica di posizionamento del dato che rende questo dato effettivamente fruibile è direttamente quindi accessibile e utilizzabile e facendolo uscire quindi da questi silos dove questo dato spesso e troppe volte nel passato è stato nascosto i famosi cassetti che ognuno di noi aveva con i dati sotto la scrivania questo progetto pilota che è stato citato più volte stamattina sulla carta dell'erosione potenziale che ha visto un pilota sulla regione Lazio coinvolgendo AGEA Ispra Arzial e Università del Molise è proprio un esempio di come poi l'utilizzo integrato di dati e la qualità del dato che AGEA ha messo ad esempio a disposizione sulla regione Lazio per tutti i suoli della regione permettono di utilizzare modelli tradizionali storicamente utilizzati ma con input sempre più di qualità e ovviamente come tutti i modellisti sanno se noi miglioriamo i dati dentro il modello miglioriamo l'output se noi dentro il modello ci mettiamo dati rubbish l'output del modello è assolutamente rubbish su questo lascio la parola invece a Marco che entrerà molto meglio di me nello specifico del progetto sì ecco io voglio portarvi un po' sulla esperienza che abbiamo maturato nel corso degli anni sulla parte di linked data quindi riparto non dalle ultime slide ma dalle penultime di Michele è un pochettino come dire alla ricerca dell'interoperabilità non si costruisce l'interoperabilità solo con linked data però abbiamo visto anche stamattina che linked data sono i 5 stelle non dal punto di vista politico intendo intendo dal punto di vista della qualità del dato pubblicando linked data i dati noi garantiamo la massima interoperabilità almeno a livello a livello attuale e lo stiamo facendo in Ispra seguendo un filone che è partito diversi anni fa ormai con un progetto all'inizio era un progetto adesso ovviamente si è consolidato nel tempo che è quello di costruire una piattaforma linked data di Ispra che abbiamo chiamato linked Ispra ma anche poi con l'utilizzo di determinati progetti europei in particolare di progetti CEF quindi vi farò vedere cosa abbiamo implementato un esempio diciamo in OpenAIAX e uno spunto di riflessione che può valere anche come sviluppo futuro rubato da un altro progetto innanzitutto perché abbiamo scelto il linked data il linked open data in realtà la risposta è banale perché sono open e perché sono linked sembra in realtà banale perché è proprio nel nome però i dati aperti sono necessari sono necessari innanzitutto per un obbligo normativo ma sono necessari proprio per la vita di un istituto di ricerca noi quello che abbiamo abbiamo valutato più volte che aprendo i dati l'istituto sia aperto anche a nuove collaborazioni quindi la politica di una volta io tengo i dati chiusi nel cassetto così devono venire a cercarmi in realtà funziona molto poco almeno allo stato attuale è una sorta di isolamento attualmente aprire il dato è un aprirsi al mondo e poi perché sono linked il dato non può vivere più di natura propria se il dato è riferito alla qualità dell'aria non lo possiamo considerare solo per la qualità dell'aria lo possiamo considerare per la salute umana lo possiamo considerare per la vivibilità di certe aree quindi il dato deve essere necessariamente collegato ad altre risorse deve poter parlare con altre risorse con altri ambiti e il modo migliore per farlo è creare dei link un po' quello che fa quello che fa Google quello che fa Wikipedia noi entriamo in una risorsa da lì siamo in grado di navigare in altri sistemi che a volte neanche immaginavamo la nostra mente man mano è in grado di costruire dei percorsi che ci porta avanti e ci porta a scoprire nuove risorse l'essere open e l'essere linked ci porta ad essere completamente compliant con i principi fair che adesso insomma vanno tanto di moda e che devono essere che devono essere rispettati è chiaro che c'è un contro nell'utilizzo di questi linked data che non sono così semplici da costruire non è un semplice dato che viene messo a disposizione non è un csv non è una tabella quindi richiede sicuramente uno sviluppo tecnologico importante ma è anche vero che sono poi decisamente intuitivi cioè noi cosa pensiamo di fare con il linked data cerchiamo di rendere il dato molto più vicino alla leggibilità delle macchine in realtà però lo facciamo sempre con una semantica abbastanza umana quindi se riusciamo ad accoppiare questo duplice interesse di rendere il dato aperto alle macchine aperto alle macchine vuol dire che non deve essere più uno sforzo importante dell'utente quello di acquisire il dato e di legarlo ad altri sistemi ma che nativamente noi lo rendiamo aperto a questo utilizzo ma strizziamo anche un po' l'occhio alla leggibilità umana perché lo facciamo sostanzialmente facendo in modo che le risorse siano umanamente leggibili le risorse se le poniamo su risorse informatiche su URI le URI le costruiamo alla modalità di Wikipedia noi leggendo la URI di Wikipedia capiamo già in che risorsa siamo e possiamo navigare così in ulteriori risorse anche semplicemente leggendo le URI quindi possiamo già avere un'idea di quello là che stiamo considerando la bellezza dei dati Linked è nel fatto che si può poi navigare in un mondo di relazioni che poi va va alimentato va alimentato con la creatività del singolo utente del ricercatore che può partire da un dataset ad esempio da un dataset di Ispre vi posso assicurare che Ispre è proprio qui in mezzo e navigare in tantissimi altri dataset tantissime altre realtà che sono poi inattivamente linkate tra di loro qui in mezzo noi abbiamo la parte Linked Data diciamo di Wikipedia ma abbiamo anche l'Eurostat abbiamo altri istituti italiani perché Linked Data si stanno sviluppando sempre di più abbiamo tanti altri enti e associazioni internazionali siamo partiti in realtà da pochi dataset in realtà erano i dataset che stimolavano un pochettino le nostre come dire che avevano un po' tutti i casi da analizzare avevamo dei dei dati puntuali da stazioni di monitoraggio marine abbiamo dei dati aggregati degli indicatori aggregati a livello comunale abbiamo degli interventi il repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo e abbiamo poi il core essenziale quello che ha detto anche Michele noi non possiamo non riferirci ad un posto fisico sul territorio che può essere un posto amministrativo una provincia un comune può essere anche un luogo naturale un fiume un monte una valle però ecco tutto parte dalla definizione di un posto geografico un punto una linea un'area e a questo devono essere riferite un po' tutte quante le nostre osservazioni partiamo da dati che sono attualmente disponibili in ispra nelle modalità più varie possibili c'è da fare un grosso sforzo per creare linked data non mi nascondo che questo è un po' il core che parte sia un po' dall'analisi del dato iniziale dalla pulizia del dato iniziale ma soprattutto ne deve costruire un qualcosa che sia poi leggibile per le macchine e per l'uomo ma che dia non solo il valore della stazione di misura dell'indicatore di consumo solo ma che dia tutta l'informazione necessaria questo è un processo abbastanza complesso che abbiamo cercato di farlo anche sempre con situazioni open source e gratis che porta poi alla pubblicazione alla pubblicazione su un triple store che poi consente l'interrogazione e l'esportazione in diversi formati quello che abbiamo quindi è la modellazione di componenti principali abbiamo appunto il place abbiamo stazioni di misura strumenti le singole osservazioni gli indicatori gli interventi sono diciamo delle entità che noi abbiamo potuto esplorare attraverso tutto quello che poi è la filosofia linked data quindi con l'utilizzo di ontologia a volte con ontologie ispra a volte con ontologie rubate per modo di dire dal mondo che già ha creato ulteriori ontologie linked data si preferisce tanto riutilizzare situazioni già conclamate già esistenti tutto parte vi dicevo da un place a cui sono collegati tutte quante le informazioni cosa può fare l'utente può dire voglio cercare un po' tutto quello che c'è in questo place benissimo io con una serie di link posso ricavare tutte le informazioni oppure voglio soltanto la parte che ha a che fare con il consumo del suolo bene mi rivolgo solo a questo ramo qui e posso navigare nei dati posso estrarre le informazioni ovviamente il tutto nel corso del tempo è stato un pochettino raffinato c'è la direttiva Ispire a cui dobbiamo sottostare e quindi abbiamo riutilizzato sempre di più delle ontologie che fossero pienamente compliant con Ispire questa è una delle maggiormente utilizzate quando si tratta di osservazioni da reti di monitoraggio osservazioni singole se vogliamo cosa si può fare adesso con i linked data che sono attualmente in Ispra? si può navigare nel dato esplorare questi dataset ma si può rispondere anche a domande che così ci possono venire estemporanei perché un ricercatore o anche un qualsiasi policy maker ha bisogno di sapere quanto è stato il suolo consumato nelle marche in fascia costiera ci sono degli interventi di difesa che sono stati effettuati lungo le coste delle marche c'è un costo di questi interventi bene io posso partire dal place che è la mia regione e andare ad esplorare quelli che sono i miei indicatori gli interventi posso anche vedere qual è ad esempio una forzante i miei interventi di difesa sulla costa sono dovuti al fatto che magari c'è tanto mare agitato e quindi andare a vedere che cosa mi dicono i dati di una stazione di misura a mare e posso poi accoppiarli anche con domini esterni ad esempio c'è l'ISTAT l'equivalente dell'Eurostat che mi dice quant'è la popolazione esposta in fascia costiera ecco tutto questo che da prima era abbastanza impensabile perché il singolo operatore doveva andare a cercarsi il dataset di consumo solo estrarre il dato il dataset degli interventi di stesso estrarre il dato quelli di boa poi andare su un altro sito quello dell'ISTAT quindi cercare una modalità di navigazione diversa e recuperare il dato ecco può farlo in realtà tutto insieme perché i dataset sono linkati tra di loro e questo vabbè è un esempio di quello che si può ottenere passiamo un pochettino OpenAIAX perché che cosa succede? ora è tutto abbastanza facile quando ci troviamo all'interno di Ispera bene o male conosciamo i nostri dataset abbiamo capacità di interpellare i nostri tematici e possiamo costruire linked data quando invece abbiamo a che fare con domini che sono sicuramente connessi tra di loro agricoltura e ambiente non possono essere scissi però sono sempre stati trattati in maniera diversa andare poi a recuperare le informazioni da una parte dall'altra e metterle insieme è decisamente difficile ma non è difficile solo per Ispra per Agea Crea è nativamente difficile e questo ce lo dice anche la Commissione Europea quando abbiamo provato a creare degli indicatori a generare delle informazioni ci siamo sempre solo rivolte ad un dominio io provo a valutare i gas serra emessi da determinati allevamenti lo faccio con stime che partono solo da dataset di allevamento non considero invece dei dataset congiunti perché è estremamente difficile andare a interrogare istituti situazioni che purtroppo sono separate alla nascita pur non essendo così separate e gli esempi in cui c'è questa connessione tra ambiente e agricoltura sono tantissime pensiamo alla quantità delle acque ai periodi di siccità o di piena pensiamo alla qualità delle acque possiamo pensare anche a situazioni più disparate l'intrusione del cuneo salino in aree costiere c'è una stretta connessione per cui obiettivamente questi domini necessitano di una connessione stretta possiamo misurare l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e anche il viceversa ovviamente l'impatto dell'ambiente sull'agricoltura attualmente non si sa non si sa perché dipende dai dati dipende molto spesso dai dati che abbiamo a disposizione fortunatamente qualche cosa si può fare facciamo degli esempi la comunità europea in realtà stesso adesso ci suggerisce una serie di indicatori che possiamo andare ad esaminare ci suggerisce ad esempio di puntare molto sulla biodiversità ci sono una serie di specie che sono obiettivamente influenzate dalla situazione agricola in particolare ecco la stessa diciamo l'agenzia europea per l'ambiente stima che i uccelli che hanno a che fare con l'agricoltura cioè le specie più sensibili all'utilizzo del territorio in ambito agricolo hanno un andamento crescente e decrescente insomma dipende un pochettino dagli anni possiamo valutare questo andamento lo possiamo fare ovviamente se abbiamo i dati in Ispra ad esempio abbiamo questo dataset che ha a che fare con le attività di osservazione di determinate specie della vifauna in particolare ci sono diciamo dei colleghi che sono degli inannellatori certificati che appunto osservano in particolare catturano attraverso delle reti le specie di uccelli e ne identificano la specie e individuano anche determinate caratteristiche per cui il dataset è formato essenzialmente da alcuni dati qui ho identificato i dati necessari i dati facoltativi in realtà questi sono i dati necessari per la pubblicazione link e data dei nostri dati che è la data dell'osservazione della cattura la posizione in termini di latitudine e longitudine la specie il nome scientifico della specie e la tipologia di osservazione possiamo avere anche ulteriori dettagli relativi alla cattura cioè il comune in cui è stata effettuata la cattura il posto diciamo di riferimento l'identificativo della specie il codice internazionale associato se si tratta di una specie autoctona o una specie aliena se si tratta di una prima osservazione della singola osservazione o se si tratta di una ricattura e alcuni dati biologici sull'età lo stato di salute e quant'altro fortunatamente la pubblicazione linked data è abbastanza facile perché esiste già un'ontologia consolidata esiste un'ontologia che si chiama Darwin Core che poi è stata sviluppata ulteriormente nel 2016 per cui è estremamente facile tramite questo sistema già autonomamente linkato individuare la singola osservazione che fa capo ad un organismo che riprende una determinata tassonomia e ricondurci poi anche al posto in cui è stato effettuato l'osservazione quindi utilizzando questo schema è facile pubblicare il dato linked data in realtà potete immaginare se questa è la singola osservazione io posso tranquillamente qui mettere un'altra freccia andare in altri ambiti come ad esempio la parte di agricoltura posso considerare ad esempio da qui quante sono le osservazioni che fanno capo ad una certa percentuale di coltivazione biologica c'è una relazione ad esempio tra l'osservazione la cattura di uccelli e quant'è la diffusione di agricoltura biologica bene questo ovviamente non sta al progetto OpenAIAX dirlo ma sta alla fantasia del singolo operatore che una volta che il dato è presente ed è nativamente linkato può viaggiare nell'ambito di diversi campi e può generare può fare le considerazioni più anche più fantasiose volendo sempre con un certo criterio e costruirsi i propri indicatori è chiaro che tralasciamo questa questa parte è chiaro che gli indicatori ovviamente devono essere costruiti con un certo criterio possiamo ad esempio considerare quali sono gli effetti di determinate culture sulla diffusione di determinate specie possiamo anche considerare degli aspetti economici pensiamo a quanti comuni hanno poi fatto della diffusione di determinate specie uno spot per il turismo penso alla Rondine al Falco alla Cicogna alla Lontra al Lupo quindi diciamo la diffusione di determinate specie accoppiato poi ad un uso del suolo in questo caso un uso agricolo del suolo in una certa tipologia può generare anche un'economia forse che non ci aspettiamo abbiamo analizzato all'interno del nostro progetto un indicatore perché abbiamo scelto questo perché anche meno anche meno perché ecco è quello che è nominato attualmente più volte come indicatore che associa la biodiversità alla componente agricola è un indicatore che misura l'abbondanza di specie associate all'agricoltura in un determinato sito le specie che sono comunemente individuate dalla comunità europea sono 39 in realtà la comunità europea dà spazio ai diversi paesi di scegliere la lista di specie che vuole e a questo punto una volta pubblicato il dato in formato di link data è possibile richiedere soltanto il dato relativo a queste 39 specie o anche ad altre liste di specie è possibile selezionare un territorio all'interno della nostra query che può essere una provincia una regione l'Italia intera può essere anche una query geografica quindi possiamo chiedere i confini di una valle ad esempio applicare poi quello che è un modulo per il calcolo dell'indicatore e ottenere questo questo FBI il modulo devo dire fortunatamente è già individuato ed è facilmente scaricabile a partire anche dai portali della comunità europea si tratta di sostanzialmente codici scritti in R quindi codici open source che richiedono però anche una certa una certa manualità che sono come dire in qualche modo anche settabili quello che ne viene fuori è una cosa del genere questo ad esempio è stato fatto per la regione Piemonte per cui per ogni anno è individuato questo indice multispecie che ci fa dire che secondo le osservazioni che attualmente ha Ispra il trend sostanzialmente è un trend che in generale è di un declino moderato è chiaro che il tutto dipende da quanti dati sono stati osservati dalla stima che viene fatta della popolazione e anche dal territorio che stiamo esaminando un altro indicatore può essere ad esempio il numero delle specie affine all'agricoltura che sono state catturate nel sito per cui quello che abbiamo è che nel corso degli anni ci sono stati anni in cui abbiamo osservato un numero elevato rispetto alla lista delle 39 specie altri anni invece ne abbiamo osservate solo pochi e anche questo è una caratteristica ovviamente territoriale concludo mettendo un po' all'attenzione quello che è in realtà un output di un altro progetto a cui partecipiamo che è il progetto WOW che invece lega i domini di acqua e salute in realtà questo progetto si basa molto meno rispetto ad OpenAIAX sulla componente tecnologica perché non abbiamo la componente degli HPC però c'è una forte componente invece di condivisione con gli stakeholder in particolare quello che si cerca di avere in questo progetto è proprio quello che diceva Michele non siamo noi come istituto come combinazione di istituti a dire cosa ti vogliamo dare ma ci aspettiamo da una serie di stakeholder degli input che ci dicano noi abbiamo bisogno di queste informazioni abbiamo bisogno di legare insieme queste informazioni quindi tocca a voi istituto cercare di darci queste informazioni nel miglior modo possibile ed era poi un po' quello che diceva Salvatore probabilmente una un comitato scientifico un qualcuno che poi supporti anche i tecnici a dare il dato nel miglior modo possibile valutando anche quali sono gli interessi degli stakeholder è probabilmente un passo in più che dobbiamo fare rispetto al nostro progetto bene grazie buongiorno a tutti sono Fiorenzo Ambrosino sono ricercatore per l'Enea sarò veloce perché il tempo è tiranno spiegherò un po' velocemente a chi non lo sa già a chi non è partner del progetto cosa è l'Enea e anche a chi lo sa già che è partner nel progetto cosa c'entra l'Enea con l'HPC e con il supercalcolo in particolare quindi una panoramica diciamo quello che è il ruolo degli HPC all'interno del progetto OpenAjax e quindi più nel dettaglio quella che è poi l'installazione dell'endpoint come risultato del progetto e poi l'implementazione di due architetture software relative a due linee delle attività che vedremo più avanti più nel dettaglio allora l'Enea è l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l'energia e lo sviluppo economico sostenibile si occupa quindi della ricerca e sviluppo in particolare in quattro dipartimenti relativi alle tecnologie energetiche di cui faccio parte anch'io con la divisione diciamo di ICT e supercalcolo l'ambiente e la sostenibilità fusione e sicurezza nucleare e efficienza energetica le finalità principali sono quelle diciamo della ricerca e sviluppo in questi quattro settori con collaborazioni con altri enti di ricerca e università sia a livello nazionale che internazionale e un'altra vocazione sta in un'agenzia quella diciamo del trasferimento tecnologico verso le pubbliche amministrazioni nazionali e il tessuto produttivo allora che cosa è l'HPC? l'HPC diciamo sta per i performance computing cioè calcolo ad alte prestazioni l'Enea storicamente ha una tradizione diciamo nell'HPC perché come sappiamo essendo diciamo si occupa anche di ricerca e sviluppo ci sono molti settori da ricerca e sviluppo che hanno bisogno di calcolo di simulazione anzi diciamo negli ultimi tempi questo settore è in forte crescita e storicamente l'Enea dato che ha radici che affondano diciamo nella ricerca nucleare ha sempre avuto diciamo un ruolo di punta in questo settore e storicamente diciamo c'è l'Enea Grid che sarebbe una griglia di centri di calcolo distribuita geograficamente sul territorio nazionale e ospitata in centri di ricerca dell'Enea in pratica sono sei centri di calcolo in area romana abbiamo un centro a Frascati uno a Casaccia che è vicino al lago di Bracciano poi c'è Portici vicino Napoli Bologna Brindisi e Trisaia in Basilicata insomma bei posti diciamo in particolare parlerò di Cresco che è diciamo l'ultima linea di questi sistemi di supercalcolo che sono tutti ospitati più o meno a Portici che quindi negli ultimi anni e l'ultimo decennio poco più è diventato il centro di punta per quanto riguarda il supercalcolo con i suoi sistemi di Cresco quindi diciamo nel maggio 2018 abbiamo inaugurato a Portici il sistema Cresco 6 che sarebbe l'ultima iterazione di questi sistemi di calcolo che con 1.4 petaflop cioè un numero enorme di operazioni al secondo entrato anche nella lista delle top 500 macchine più potenti al mondo nella versione diciamo nell'edizione di novembre 2018 parlo di Cresco 6 perché Cresco 6 viene utilizzato poi come sistema che ospita i job di calcolo per quanto riguarda i servizi sviluppati nel progetto Cresco 6 diciamo ha circa 434 nodi 20.000 core di calcolo ogni nodo ha 48 core sono insomma dual processor Intel Xeno Platinum 2.1 GHz 192 gigabyte di memoria rete Omnipat Intel a bassa latenza di 100 gigabit al secondo diciamo a cosa serve l'HPC in pratica coaduviamo attività di ricerca e sviluppo in più o meno sostanzialmente diciamo questi non sono dati recentissimi ma sono più o meno in linea ogni anno l'84% insomma la gran parte è attività interna di ricercatori in Enea però ci sono anche collaborazioni con un lista e altri istituti di ricerca partner stranieri e aziende i settori applicativi nei quali viene applicata la simulazione quindi la modellistica numerica fondamentalmente sono appunto il settore di energia nucleare la la combustione quindi modellistica di fluodenamica computazionale per quanto riguarda i combustibili il clima simulazioni quindi per quanto riguarda il cambiamento climatico l'impatto ambientale scienza dei materiali sistemi complessi questa diciamo è la slide riassuntiva che abbiamo visto anche stamattina da Matt del progetto over Ajax in pratica diciamo nell'approccio bot on app abbiamo come abbiamo visto stamattina vado veloce in basso le sorgenti dei dati in alto i casi di uso applicativi quindi quelli che sono poi gli utilizzi dell'end user e al centro abbiamo quello che poi sarà è il sistema che ospita i servizi quindi la piattaforma di calcolo vera e propria e qui ho evidenziato quindi diciamo anche il ruolo dei vari HPC come diceva Matt stamattina gli HPC sono tre e sono quello italiano quindi per quanto riguarda l'Italia siamo noi l'Enea c'è anche il sistema di supercarcolo Skyle Supercomposition Castilla e Lyon per la Spagna e PSNC Pozenan Supercomputing Networking Center per quanto riguarda la Polonia questa infrastruttura quindi ospiterà quello che è il network degli endpoint endpoint le attività di progetto più specifiche che ci vedono coinvolti sono la 4 e la 5 la 4 è relativa alla creazione e gestione appunto dei link open data endpoints quindi progettazione e sviluppo della rete progettazione e sviluppo delle componenti software per quanto riguarda l'armonizzazione dei dati e la progettazione e sviluppo delle componenti software per la generazione e la trasformazione di questi dati in formato linked open data quindi in rdf e pubblicazione sui endpoint l'attività 5 invece è l'infrastruttura hpc per i servizi generici i servizi diciamo in questo contesto sono progettazione e sviluppo delle componenti software che poi vedremo più avanti per il calcolo degli indicatori della pianificazione delle risorse di calcolo e il trasferimento di questi servizi da e verso i centri hpc per quanto riguarda l'endpoint diciamo da un punto di vista software la scelta è stata fatta è caduta insomma sul virtuoso dell'open link che è un database come sappiamo sparkle e ha funzionalità appunto per rdf è stata fatta una valutazione diciamo sul tipo di versione se versione community versione diciamo licenziata la scelta è caduta sulla versione community anche perché per le performance diciamo dobbiamo finire di fare dei test però chiaramente se avessimo diciamo dei problemi poi sul lato come pure diceva Flavio sul lato diciamo finale in produzione possiamo sempre switchare su una versione licenziata il software comunque è ampiamente utilizzato dagli altri partner di progetto anche diciamo più diciamo sia dal lato del provider dato cioè degli esperti di dominio che dal lato HPC sull'endpoint sono stati configurati i sistemi di containerizzazione che vedremo più avanti che sono stati fondamentali per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi parliamo di docker per quanto riguarda dei servizi generici e singulari per quanto riguarda i servizi che poi genereranno proprio sul centro di calcolo perché singularity ha una sua capacità di essere più sicuro dal punto di vista informatico per quanto riguarda invece la configurazione hardware è stata fatta una valutazione dei pro e dei contro sulla soluzione diciamo passare per un sistema virtuale però la scelta poi è caduta su un server fisico perché dal punto di vista delle performance delle risorse attualmente in Enea a Portici abbiamo un'architettura virtuale che probabilmente non è in grado diciamo di elaborare e gestire grosse informazioni di dati e quindi il server fisico vabbè vediamo velocemente questi sono i dati ha sostanzialmente 16 core un processore dual Intel Xeon non di questo tipo della generazione ma comunque abbastanza potente 128 GB di RAM e due interfacce gigabit Ethernet è stato installato diciamo anche l'accesso al file system ad altre prestazioni che si chiama GPFS e quindi può avere accesso a diversi terabyte di dati e poi è stato configurato la comunicazione tra questo endpoint e il sistema di calcolo vero e proprio che è Cresco 6 le componenti software che dicevo prima sono sostanzialmente due e le vedremo più nel dettaglio una diciamo la prima è questa la chiamiamo velocemente Linked Data Pipeline è stata sviluppata dai colleghi di PSNC è una pipeline perché prende i dati di input li estrae li preprocessa li trasforma in Linked Open Data li post processa e li pubblica nell'RDF ovvero in formato RDF nel nostro triple store è un tool sviluppato in Python ha diverse potenzialità ad esempio è riusabile perché può essere facilmente configurato è rieseguibile più volte e anche in parallelo quindi può essere diciamo lanciato in modalità parallela su diversi servizi di calcolo del supercalcolatore è adattabile perché dispone di alcune pipeline generiche configurabili come altre già preparate come per esempio i dati informati del PIS il PIS è semiautomatico nel senso che può essere lanciato anche da riga di comando sia all'interno di un container docker sia all'interno del container singularity su Cresco 6 il nostro contributo più specifico è stato oltre che sul deploy sul miglioramento degli aspetti di performance è stata migliorata di molto l'efficienza sia del building sia come dimensione dell'immagine sia velocità di building è stata migliorata alcuni aspetti sulla sicurezza è stata migliorata anche la flessibilità della configurazione delle pipeline non bisogna più entrare all'interno del container per fare delle modifiche questo è stato fatto tramite un approccio multi stage dei container che quindi tramite appunto questo approccio ci ha reso possibile un building più veloce e modulare tutto ciò è stato propagato su due iterazioni diverse del software quindi diciamo tutte le modifiche e le implementazioni che sono fatte sulla prima versione sono state poi riprodotte su una seconda versione più ricca che ci hanno fornito i colleghi di PSNC attualmente diciamo la trasformazione in rdf dei shapefile delle province italiane è in fase non è stata ancora ultimata diciamo siamo in fase di benchmarking per quanto riguarda i dati al PIS e invece dobbiamo ancora preparare il mapping per quanto riguarda gli altri dati questa trasformazione è girata su job seriali è stata creata e configurata una coda specifica per Cresco 6 per sistema di supercalcolo è stata creata un'utenza dedicata a questa attività è stato diciamo è stato approntato uno scambio di chiavi criptografiche per poter far sì che ci sia una comunicazione diretta tra il triple store che ospita anche diciamo la piattaforma di calcolo e il sistema di calcolo stesso e l'accesso allo storage GPFS come si può vedere da alcuni dati di esempio diciamo attualmente le performance sono intorno a 1 megabyte al secondo quando si fa la trasformazione dei dati da formato shapefile al PIS a formato link dove in data l'altra piattaforma software che dicevo prima è stata sviluppata da l'Urisita Carlo III di Madrid quindi è sviluppata in Java e il suo schema riassuntivo lo possiamo vedere sulla sinistra diciamo ci sono diversi oggetti che girano su diversi container sempre docker e quindi abbiamo un oggetto che è un'interfaccia REST API che dialoga con un broker che in questo caso è la patch Kafka che da un lato comunica con il database tramite un altro oggetto che è il DB CRECEST manager e dall'altro lato comunica col sistema di calcolo vera e proprio tramite un altro oggetto che è il container manager il container manager quindi diciamo si occupa tramite il gateway che vediamo sotto di comunicare direttamente poi con l'infrastruttore di calcolo che è gestita dal nostro gestore delle risorse che è LSF in questo diciamo in questa slide possiamo vedere brevemente in alto alcuni container che sono stati diciamo installati e deployati e possono funzionare sulla nostra infrastruttura anche però anche se però stiamo ancora diciamo ultimando il gateway vero e proprio a proposito di gateway ad esempio in basso possiamo vedere una diciamo delle funzioni che sono relative all'interfaccia tra il sistema della piattaforma e il centro di calcolo che è stato personalizzato per LSF che è un sistema di gestione delle risorse che abbiamo soltanto noi a Portici in Enea quindi concludendo diciamo mi sento di poter dire che come lezioni acquisite diciamo dal nostro punto di vista abbiamo sperimentato la potenzialità dei sistemi di containerizzazione come Docker e Singularity che sono fondamentali perché per l'interoperabilità possiamo prendere diciamo e farli diciamo possiamo deployarli sui diversi sistemi di calcolo anche le nostre modifiche le nostre improvements poi possono essere prorogati propagati sugli altri sistemi di calcolo dal nostro punto di vista ci sono alcuni task finali che restano come ad esempio la trasformazione di tutti i dati in formato LOD la valutazione delle performance e appunto come dicevo poco anzi la finalizzazione del deploy dell'ultima della seconda infrastruttura di calcolo e in particolare l'interfaccia del gateway grazie per l'attenzione grazie grazie Flavio Michele Marco e Fiorenzo allora io se siete d'accordo andrei a pranzo siccome in Italia si mangia bene quindi mi rivolgo in particolare agli stranieri diciamo che ritorniamo alle 2.15 pm e integrerei il punto delle domande e risposte nella sessione della data rotonda che a questo punto ho il piacere di estendervi a voi perché farete parte della discussione perché poi dobbiamo arrivare a dei risultati come output del workshop e quindi se prima avevo pensato di farlo in maniera ristretta ma adesso durante diciamo il lavoro odierno mi è venuta questa idea e che secondo me diciamo che faccia partecipare i stakeholder che siete voi in questo caso non alla data rotonda e quindi puoi fare un punto della situazione tutti insieme ovviamente mangiate poco ma soprattutto bevete poco perché poi a dopo buon pranzo controllo Grazie a tutti. 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 Adesso cominciamo. Manca l'Urbano. Chiamo Urbano che sta fuori a parlare con Martinez. con Martinez. Marco, sta qui Marco. Vieni qua. Matt. Puoi aprire anche... Puoi aprire anche... Sì, apri. Bene, Flavio. Milano. Stai qua. Allora. Ovviamente... Prima del launch abbiamo un po' visto alcune cose che abbiamo fatto, ma soprattutto anche altre idee che sono venute fuori grazie a Open Ajax. Quindi abbiamo visto che siamo partiti da Open Ajax e poi, insomma, Crea e anche Ispra hanno sviluppato anche altre idee basate sulla metodologia di Open Ajax. Fiorenzo ci ha fatto vedere un po' qual è poi, insomma, tutta l'infrastruttura del database, come... perché essendo di big data, quindi dobbiamo avere un sistema abbastanza potente per poter gestire, perché noi abbiamo lavorato su delle province, immaginiamo tutta Europa. Insomma, quindi alla fine inizia a diventare veramente big data in tutti i sensi. Allora, per concludere, io direi questo. Cominciamo a buttare giù delle idee su cosa può essere dopo questa esperienza nell'ambito di nuovi sviluppi. Quindi, sinergie fra istituzioni o anche idee progettuali. Non è che dovete comunque fare le specifiche tecniche adesso, ma comunque ci possiamo anche sentire via email, perché se c'è un'idea progettuale anche interessante da poter inserire nella comunità Open Ajax come output di questo workshop, potrebbe essere anche un'idea per un prossimo, diciamo, follow up di quest'idea. Ma soprattutto poi, per chiudere, diciamo, la tavola rotonda, è importante se è chiaro per voi il ragionamento che, visto che parliamo di dati, sì territoriali, ma comunque che hanno un impatto con alcune persone fisiche o giuridiche, che sono poi gli agricoltori o beneficiari, se è chiaro per voi, avete qualche dubbio sul fatto, se tutto è possibile aprire, oppure ci sono dei limiti nell'ambito della vostra, diciamo, esperienza, e così puoi riuscire a rispondere anche a questo, diciamo, elemento, perché il primo elemento, perché il top management ha qualche problema a dire, ok, andate, perché non c'è nessun problema. La prima questione che viene posta dai policymakers è, ma siete sicuri che non andiamo a intaccare la privacy? Quindi, se quello che abbiamo visto oggi è esaustivo, oppure, insomma, abbiate anche altri, diciamo, ancora problemi di natura legale, giuridica, perché quando parliamo di dati aperti, sono dati aperti, quindi, insomma, può accedere anche, insomma, chiunque e quindi, insomma, impattare poi con problemi legali o giuridici. Quindi, io partirei col primo punto. Quindi, OpenX finisce il 31 marzo come attività. Quindi, da qui abbiamo aperto, insomma, una serie di esperienze a riguardo, insomma, un po', ci volevo aprire, insomma, la tavola dicendo se qualcuno ha qualche idea per un follow-up. e quindi, insomma, un po' di più. Allora, visto che ci vedo un sacco di idee, provo a fare io un po' di apripista. Allora, è fondamentale che abbiamo ottenuto dei risultati. Un'idea potrebbe essere quella, visto che dobbiamo andare a monitorare, come stamattina diceva Filippo, tutta la parte della futura PAC, quindi un progetto potrebbe ricordare che tipo di dati abbiamo bisogno geospaziale per arrivare poi al report di performance di tutta la parte della PAC a livello di stato membro, perché non penso che sia utile pensare che io mi metto a lavorare su base di dati statistici quando abbiamo degli strumenti che sono geospaziali, oggettivi e territoriali, quindi che ci potranno aiutare su tutta una serie di aspetti, soprattutto quelli di clima e di ambiente. E qui adesso proverò a parlare anche a Bruxelles con il capo di unità che siamo anche i colleghi di Ispra conoscono bene, perché lui è la parte clima, per poter cominciare a rispondere anche su come mettere su una serie di banche dati che hanno a che fare per rispondere agli indicatori di performance della PAC futura. Quindi su questo però abbiamo bisogno di un po' di attori, che ovviamente sono le regioni, in particolare per quanto riguarda anche la Spagna, che anche loro hanno un sistema di agenzie di pagamento regionali, e quindi di conseguenza essendo i piani strategici della PAC, dove sono all'interno degli interventi nazionali, degli interventi regionali, tutto il contesto deve essere rapportato a un unico contenitore. Quindi un lancio di un progetto per poter mettere su come rispondere a tutti quegli indicatori di performance della futura PAC utilizzando dati aperti geospaziali, dove tutte le regioni possono contribuire con le loro informazioni territoriali. Perché magari io al centro ho delle informazioni, però magari la regione Marche, non lo so, c'è i radar militari che magari siano più aggiornati di me e quindi di conseguenza dovevo trovare le sinergie su come integrarli. Come diceva Filippo, in una scala 1 a 2.000 nel nostro caso, una scala 1 a 5.000 che già è testata nell'ambito del SIPO da un regolamento comunitario. Quindi non so se questo potrebbe essere uno spunto, perché questo ovviamente ha un impatto sia agricolo, quindi ministero e agenzia di pagamento e coordinamento, ma ambientale, perché molti di quegli indicatori sulla performance sono ambientali, e di ricerca perché ovviamente ci devono aiutare a sviluppare i modelli che ci portano a sviluppare gli output di quegli indicatori. Adesso se farlo su scala nazionale, se farlo su scala europea, io preferisco la seconda. Quindi magari noi a valle del progetto di OpenX i risultati con questa idea di follow up di un progetto successivo andrebbero lanciati in un network, in una community dove coinvolge tutti gli altri Stati membri. Quindi potrebbe essere anche come un report output di follow up da parte di OpenX veicolata tramite il coordinamento che è l'Università Carlo III. Poi ci saranno dei progetti altri che sono pilota, ma questo io penso che anche a livello della comunità europea sia importante che ci sia comunque un interesse su questo aspetto, che poi interesse di tutti, anche la Commissione europea, per fare la futura programmazione. Io direi chi alza la mano, chi abbassa la mano, chi è favorevole, chi è il contrario. Così alla fine riusciamo a capire che c'era... Allora, insomma, questa potrebbe essere... Matt, non so, tu dovrai lanciare quest'idea, ma come formativa, non tanto come obbligo, tutto viene da sé, la lobby si fa in parallelo, tu fai la comunicazione ufficiale, no? Io ho fatto il progetto di OpenX, è uscito questo output, quest'idea, poi ci facciamo le operazioni di lobby, ma quello diciamo in parallelo, però potrebbe essere un'idea. Grazie, poi l'esperienza fatta su OpenX. Well, regarding to this part, for the University of Cardoso Tercero and Formadi, have two different proposals, actually. One of them is try to work with the administrative in Spain, make a research group about this part, the new technologies that link in OpenData, because we have a different result for the difference initiative. So, the idea is try to create a group, IDME, just to fortify all the pack, all the evaluation methodologies, to good approach about the new politics, about the agro-environmental and the competitiveness of the territory, national territory, based on all the services that we provide in these different initiatives. So, OpenX is one of them. We have a difference regarding to the biodiversity, too, it's cross-NATO. We talk about this other initiative. We have a lot of them that provide us a catalogo to demonstrate, ask for this financial for the project, okay? It's more about the evaluation from the public politics and the competitiveness of the territory, from this aggregate semantic values, which will be the plus. And we are the inconvenience that we saw this. We make us on a schema of them. It's a lot. But the idea is first this part. And also, we have the first step. We talk with the minister in Spain. They agree with all of that because we have some new results. So, in that part was one of them. For the other initiative about this, it's create a group of discussions for the transfer of the knowledge. Because the idea is propagate for this knowledge and technology from another initiative that we don't know exactly. because our core, our main purpose is from the agro-environmental area. So, the idea is how to propagate this in another topic, different topics in this point. Thank you. Michele Munafo, I don't obligate you to do what I say, but I give you the know-how. So, you are free to participate in a framework, which is decided in the national field. Philippe, for sure. Yes, thank you. I have a question. Because in fact, now all of these developments are made in theory also for management, for management, etc. So, to go to the performance. from what I've seen today, it's really a good start. and the first applications that I've seen, for me, we're still in the system, we're still in compliance. What I want to say is that, what I want to say is that, for example, sull'inquinamento, il legame con l'inquinamento delle falde o il bird index, siamo ancora nella situazione dove vediamo i risultati, però per me l'Open Ajax dovrebbe fare il step successivo, una volta che abbiamo visto quello, utilizzare questi dati per cominciare a fare il management, quindi approfondire questo problema di inquinamento, essere sicuro che è veramente dovuto a queste parcelle, lavorare su crop rotation, lavorare su l'origine di questi, quindi come si diceva, sarà chimico, sarà manure, sarà... e poi una volta che abbiamo questo, cominciare a utilizzare quello per dire ok, lì forse dobbiamo cambiare i farming practice, quindi utilizzare dei che studi nel progetto per veramente utilizzare il risultato, non soltanto come risultato, ma anche come andare oltre il management. L'abbiamo visto anche il farm bird index, anche lì vediamo, scende, quindi se io prendo il dato così, diciamo, l'agricoltura non va, perché abbiamo cominciato il greening e vediamo il bird index, quindi anche lì si deve andare oltre e poi secondo i risultati, allora cosa dobbiamo fare per cambiare, quindi io aggiungerei, se possibile, alcune use case dove si fa il step successivo per andare veramente verso performance, miglioramento. Sì, Filippo, effettivamente è una buona idea questa qui, perché abbiamo, come diceva Matt, adesso del know-how, sul livello ancora di compliance, quindi abbiamo capito come poter insomma creare una sinergia fra vari enti, quindi questo è già un risultato mica da poco, perché insomma, mi ricordo un anno e mezzo fa per parlare fra istituzioni ci voleva la raccomandazione del Papa, non so, con l'anello che metteva il cisigillo, adesso, già questo step, diciamo, è passato, i tecnici ci sono, hanno anche, diciamo, il know-how, però adesso cosa mettere sopra a questa esperienza fatta su Maniacs per poter poi passare al discorso di performance, che è tutto un altro mondo, per poter poi, non dico lasciare le briglie, perché ovviamente quando io do a Flavio ho una cosa da fare, essendo un ricercatore, lui si mette a ricercare, un po' dovevi fermare, no? Perché ricerca, 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 però in un certo punto ci deve stare un framework che, oltre a quello, per quanto ci riguarda della performance, non è poi esaustivo come risposta da fornire, perché magari se vada a ricercare qualcosa che non è finire già da quello, rischio di farmi male da solo, come, insomma, l'esempio di Filippo, che vede la curva dell'ambiente che scende dopo che noi abbiamo fatto per dieci anni greening, c'è qualcosa che non torna, allora, forse l'algoritmo, il modello sviluppato non era quella risposta che noi poi vogliamo dare, quindi attenzione su questo aspetto e quindi, diciamo, c'è fondamentale poi quel comitato scientifico, Filippo, che tenga un attimino il framework e dire, ok, io voglio arrivare a questo output, poi se tu vuoi andare oltre per altri scopi, a me non mi interessa, perché se no rischiamo di perdere, di disperderci in un'isolazione che poi non abbiamo uscita, che anzi è un boomerang. Quindi, questo sia un'ottima idea. Quindi partire dagli use cases di risposta di OpenAjax e sviluppare un altro use cases che ci porti un po' a alzare un po' il livello verso la performance e non sulla compliance. Poi non lo so se Flavio... Io volevo aggiungere, sì, su Filippo, sicuramente quindi ampliando, diciamo, questa visione, sicuramente questo ci porta poi anche a dover andare più in profondità, capire, diciamo, se quei segnali che abbiamo legato, è l'esempio dell'acqua, no? Quell'inquinante veniva effettivamente dall'agricoltura oppure no? Quindi, diciamo, lì forse c'è un approccio anche più olistico, quindi dovremmo ancora ampliare ancora di più, diciamo, magari anche l'ambiente urbano. Come fanno il management delle strade, diciamo, fanno di serbo a bordo strada? Quali strade, diciamo? Quindi effettivamente, quindi, diciamo, si amplia molto, diciamo, l'arena nella quale dovremmo muoverci, no? Non so se siamo capaci, diciamo, di gestirla tutta. Scusate, Paola Antidiarsial, no, la mia domanda, temo sia ingenua, ma abbiamo visto con OpenAjax alcuni database, alcune piattaforme che dialogavano, ora il problema è che noi abbiamo diverse altre piattaforme, che sono una regione, e geoportali che producono dati, li mettono open, liberi, e questi collegamenti vengono fatti perché il rischio è che se viene solo un trasferimento ogni tanto, poi il dato che viene gestito complessivamente sia non aggiornato. E quindi esiste questo problema, noi ne produciamo, ad esempio, dati sui suoli, sicuramente abbiamo, non me ne occupo io, dei dati della rete Agrometeo e quant'altro. E questo è un fatto, cioè, oltre che vi sono gli stessi dati che ora ha nominato Flavio Lupia, forse sono talmente di dettaglio che forse sono in capo ad amministrazioni, a comuni o ad altri enti. E c'è una frammentarietà di soggetti che producono dati, li elaborano, si stanno evolvendo tutti quanti con la nostra regione, cioè li stanno mettendo a disposizione in formato geospaziale, con metadati e quant'altro, ma sempre una piattaforma abbastanza frammentata. Quindi forse è necessario che anche le piattaforme come OpenAjax riescano a mettere a sistema, ma magari semplicemente richiamando dei link, per quanto le regioni possono non essere sempre virtuosissime, perché sono anche regioni che continuano a non, lo so, lo verifica, non mettere a disposizione dei dati, magari perché temono che gli usi che siano fatti che ci siano usi impropri e non corretti, quindi vogliono che ci sia un controllo del dato. A volte anche questo può essere legittimo, deve esserci una collaborazione da questo punto di vista. Temo che sia un percorso abbastanza lungo e complesso, perché gli enti centrali, il CREA, lo stesso ISPRA, da questo punto di vista, per comodità a volte tendono ad essere autoreferenziali, nel senso che è più comodo acquisirsi una banca dati, ci lavoro, piuttosto che ingarbugliarmi in un sistema di ricerca e acquisizione dei dati. E poi, quando vado ad acquisire questi dati, che livello di certificazione hanno? Non lo so, banalmente, nella mia esperienza lavorativa, è arrivata la questione di voler avere alcuni dati sui suoli e lo stesso utente che ce li chiedeva diceva ma io faccio riferimento a un piano provinciale o a voi? Il piano provinciale va a leggere, adottato, ma non approvato. Quindi che valore legale ha? Che è tutta una grossa complessità della gestione e del dato. E chiudo, se non erro, il PNRR aveva alcuni progetti, alcuni obiettivi dove proprio voleva mettere dei finanziamenti, che ho visto solamente quelli sui dati meteorologici, di cui non mi occupo, per cercare di avere una piattaforma nazionale dove questi confluissero. Quindi non cambiava l'operatore, l'aggiornamento era a carico dell'operatore e quindi anche la confidenza e la qualità di chi li gestiva ma confluissero poi in un sistema nazionale. Su questo c'è un progetto, c'è un'idea, c'è un lavoro o ancora siamo sull'artigianato da questo punto di vista? E l'ultima questione, voi parlate di 2000, avete sempre messo come scala, è chiaro che ne parlate per alcuni tipi di dati perché altri dati non possono avere questo dettaglio, non lo hanno e tentativi impropri di downscaling che si vedono tutti i giorni creano degli usi, diciamo, tecnicamente, non scientificamente, ma tecnicamente illegittimi e quantomeno impropri. rispondo solo su, come dire, la prima parte della domanda. Diciamo la vera sfida è quella di avere dei sistemi federati, cioè il dato deve essere più vicino possibile alla fonte per due questioni, uno perché non si può correre il rischio che il dato venga in maniera anche impropria rimaneggiato e che quindi poi venga distorto rispetto a quella che è la fonte e poi anche per un discorso di responsabilità sul dato. C'è chi produce il dato che ha la responsabilità su quel dato. Quindi la sfida futura è quella di avere il dato in casa. Avere il dato in casa non vuol dire avere il dato chiuso, ma far sì che il dato sia aperto e interoperabile in casa in modo che da un qualsiasi punto io posso raggiungere questo dato, lo posso raggiungere da OpenAIAX, lo posso raggiungere da ISPRA, da GEA, da CREA, perché andando a navigare nei dati io ho comunque un link o un link che mi porta su un'altra piattaforma, permette di scaricarmi i dati, permette di metterli insieme. Poi se ho necessità io me li posso scaricare, organizzarmi una mia banca dati, fare insomma quello che voglio su questi dati. Una volta che sono aperti sono anche pienamente reutilizzabili. però è chiaro che l'ideale è il dato ognuno in casa propria. Questo diciamo in un mondo ideale è anche vero che nell'esperienza link e data c'è una componente tecnologica non trascurabile, per cui non è sempre possibile proprio dal punto di vista tecnologico avere in casa un sistema come questo. Probabilmente in un futuro non troppo lontano sì, saremo tutti quanti in grado di avere un sistema del genere. è anche vero che richiede tanta... Noi abbiamo gli HPC, insomma, ce l'abbiamo apposta, perché non siamo in grado internamente di poter maneggiare tutto il link e data. Forse in un futuro attraverso questo lavoro, attraverso anche il lavoro degli HPC, possiamo dotarsi di strumenti, di docker, di pacchetti che noi prendiamo, ormai sono formati, li installiamo come se fosse un comune software che utilizziamo e questi ci permettono poi di avere il nostro dato facilmente interrogabile, interoperabile in casa nostra. Questo teoricamente è quello che serve ed è il modo migliore di gestire il dato. Sul resto... Ok, grazie Marco. Allora, poi ti faccio parlare. Filippo. Allora, è ovvio che qui entriamo in un mondo che si chiama data governance, perché stiamo parlando poi alla fine di questo. Diciamo, ci entriamo in un mondo che si chiama data governance, è quello che tu dicevi Massimo, perché alla fine di questo è. La cosa importante è che sia chiaro chi produce il dato, come lo produce, chi lo aggiorna e chi lo confeziona, per essere poi fruibile da una serie di stakeholders. E questo ancora è tutto da fare. Ecco perché Filippo ci ha mandato quel messaggio. Avete preso l'esperienza di OpenX, adesso ve lo mettete a terra, un caso di studio, per mettere già regime, tutto quanto, perché è quello che avete fatto in base alla compliance. Per passare a un discorso di performance, quali attori bisogna mettere al tavolo? Ma soprattutto, per rispondere poi alla tua domanda sulla scala, è ovvio che noi abbiamo le nostre esigenze, che è quello di non farci fare le correzioni finanziarie della Commissione europea, sul pagamento dei sussidi, e quello che a volte non ci riusciamo, ma anche quello di fare in modo che i pagamenti vengono eseguiti in maniera corretta. E quindi abbiamo deciso che già a dicembre passiamo ad un altro livello, cosiddetto carta dei suoli, dove abbiamo fatto il pilota della Giove Lazio per poter più avere accurato il dettaglio dell'uso del suolo. Ma hai ragione, quando dici, ok, AGEA mi fornisce una scala 1-2 mila, ma tutte le altre informazioni agio spaziali sono alla stessa scala, o bisogna andare poi a trovare una metodologia, un tematismo, un DTM, un DSM che ci porta poi tutte le informazioni alla stessa scala, qualora mi arrivasse un layer da 1 a 300 mila, come faccio poi a farli passare, visto che poi alla fine parliamo di parcella agricola, se vogliamo dare un servizio, perché a me non basta dire che qui c'è il rischio, e beh, cioè, il discorso di performance significa, qui c'è un rischio, agricoltore, se qui chiedi un sussidio, e tu mi fai il poligono là sopra, io ti apro una finestra e ti dico, per abbassare il rischio devi fare 1-2-3, lo fai, io ti premio. Allora, è a questo dettaglio che poi bisogna arrivare, e quindi avremo non solo l'informazione diciamo open, ma anche, grazie all'informazione open, un ritorno sull'attività agricola, perché noi non possiamo fare nulla come pubblici dipendenti, noi possiamo fare e creare il dato geospaziale, punto. Ma, quello rimane, faremo un aggiornamento, e questo è un altro problema che affrontava il massimo è stato d'accordo, chi lo aggiorna come ogni quanto tempo è fondamentale, perché se no non funziona, escono fuori le riformazioni che non hanno senso. Ma io posso fare solo questo, ma chi mi fa cambiare il territorio e lo gioco da solo è qualcuno, e chi è questo? L'agricoltore. Quindi io devo dare un servizio, devo aiutarlo a dire fai questo perché io ti premio. Quindi ecco che magari stiamo inventando la nuova programmazione della PAC che non è più basata ti do un aiuto sul disaccoppiato, ma ti do un aiuto se fai qualcosa per l'ambiente. Allora ecco che salviamo tutti i soldi della PAC, ma questo è un caso di studio che ci porta poi a presentarci al tavolo dei negoziati con una proposta seria e finalizzata alla performance. Filippo. Grazie. No, volevo tornare su questo problema di data, eccetera. In effetti il progetto lì forse non è lì per risolvere tutti i problemi del mondo, soprattutto su questo aspetto perché come ho menzionato stamattina nella presentazione sono anche altre iniziative a livello dell'Europa, c'è questo Data Governance Act, c'è questo European Data Strategy, eccetera, dove lì sono progetti dove veramente lavorano su quello e quindi i progetti come il vostro dopo devono prendere quello che viene anche di questi progetti e metterli insieme. Io non sono un grande specialista di Inspire ma comunque mi sa già che dentro Inspire c'è questa idea di dire quando mettiamo un database nel Metafile di avere informazioni su da dove viene l'informazione, quanto spesso viene aggiornato chi la qual è la fiducia che possiamo avere quindi già mi sa che comunque qualcosa è già nell'aria su questa parte e quello che dico comunque è qualcosa che si sta discutendo su altri progetti e un progetto come quello secondo me dovrebbe seguire quello e non cercare di trovare la sua soluzione sì Filippo grazie allora io ovviamente abbiamo bisogno poi di una serie di community visto che la regione Lazio è una regione abbastanza proattiva su questo questa materia abbastanza sensibile insomma almeno dalla mia esperienza personale chiedevo a regione Lazio se voi avete un network con le altre regioni diciamo dei corrispettivi colleghi che la pensano come voi o che comunque insomma hanno delle sinergie sui vostri pensieri oppure sarebbe il caso che un bel giorno facciamo un bel meeting online coinvolgendo tutte le regioni del vostro insomma settore per poter cominciare a ecco a quello diceva Matt disseminare il know-how perché quando tu lanci il virus lasciate perdere il covid è stato lanciato e poi ha infettato tutti è un po' lo stesso approccio cioè lanciamo un po' il know-how vediamo se riusciamo a infettare un po' di persone per poter poi allargare insomma i ragionamenti su qualsiasi aspetto perché poi tutti quanti dobbiamo lavorare con i stessi diciamo sistemi modelli ed è fondamentale questo perché poi alla fine è ovvio che noi siamo agenzie operative no? e quindi abbiamo una maggiore libertà di decisione ma giustamente come diceva cioè Filippo e anche Flavio bisogna comunque tenere un framework all'interno del quale non possiamo andare perché altrimenti ci perdiamo l'obiettivo e questo poi mi agganciavo un po' al ruolo del ministero dell'agricoltura oggi Masaf e a quello dell'ambiente perché comunque l'ispra è l'agenzia come AGEA operativa però poi abbiamo dei policy makers che stanno sopra di noi e quindi coinvolgere anche loro in queste idee per darci la regola del framework al di là del quale non possiamo andare oltre quindi non so se ci sono altri interventi o comunque idee su questo io ho registrato insomma un po' di cose importanti e ringrazio Filippo per l'idea di user cases che farei follow up a OpenAgex grazie all'esperienza fatta su OpenAgex volevo al più presto organizzare anche una riunione un meeting per disseminare un po' OpenAgex anche nelle altre regioni Claudio mi riferisco a te quindi magari organizziamo una sessione vediamo come quando insomma in che modalità decidiamo l'argomento OpenAgex e fissiamo un obiettivo magari di output che vogliamo passare però partendo dalla metodologia dal know-how appreso nell'ambito di OpenAgex che poi avete replicato più o meno nei vostri diciamo progetti interni con con Crea abbiamo bisogno della loro ricerca perché ovviamente noi facciamo solamente mapping però poi quel mapping noi facciamo 2 più 2 fa 4 cosa c'è dietro quello poi insomma è il ruolo dei ricercatori e quindi insomma la ricerca è importante ma soprattutto che si crea un team dedicato a ciò quindi questo è un po' diciamo l'idea ma questo dovrebbe essere anche negli altri stati membri mi riferisco alla Lituania che insomma quando avete cominciato a parlare nel vostro paese di sinergie è cominciato insomma a vedere i topi verdi non so se la stessa cosa che insomma che diciamo in Italia quando non si riesce poi a mettere al tavolo tutti quanti perché ognuno ha la sua policy e non vuole poi mettere in sharing con gli altri quindi anche anche Lituania secondo me è una bella disseminazione insomma su questo aspetto utilizzando poi il report finale di OpenAex sarebbe insomma di auspicio per poter poi ripeto mettere dentro Estonia Latvia e tutti gli altri la Spagna è già entrata in quest'ottica perché insomma avete già sviluppato un po' come noi alcune sinergie e tutti gli attori sono ben disposti a cooperare su questo manca adesso i use cases che è un po' il ragionamento che faceva il film se lo buttiamo a terra poi secondo me una volta messi e disseminati tutti questi aspetti trovare il finanziamento io penso che non sia un problema basta l'idea che è buona gli attori sono buoni le idee da sviluppare poi in sinergia per avere gli output sono di interesse di tutti perché abbiamo visto sull'esempio anche della carta dei suoli è interessato l'ambiente è interessato l'agricoltore è interessato l'agenzia di pagamento c'è la regione c'è il politico quindi insomma quello diciamo è importantissimo lanciare il giusto use cases e su questo che vorrei aiutere diciamo come messaggio del workshop l'idea delle use cases che sia poi insomma ecco di interesse dei stakeholder che dobbiamo far partecipare a follow up di OpenAgex adesso non so se ci sono altre domande perché diversamente permettetemi di fare un po' di ringraziamenti di solito non so ci farei ringraziamenti perché insomma non lo so però insomma adesso è un momento perché dopo due anni abbiamo lavorato insomma in sinergia sicuramente si è costato i membri diversi ma io ho imparato non solo su diciamo know-how di OpenAgex ma anche come ragiona i miei colleghi lituani che è differente dal modo ragionale degli italiani quindi anche uno scambio di best practice non solo tecnologico ma anche umano e questa aiuta l'Europa a capire il vostro modo di agire di gestire le cose e il nostro modo di agire di gestire le cose è così gli spagnoli più o meno siamo simili è così insomma tutti gli altri quindi questi diciamo rogetti Uwide sono effettivamente il il nocciolo diciamo il cibo che tutti i giorni poi dovremo mangiare perché poi ci permette di caverci l'uno con gli altri e di migliorare il futuro della nostra Europa un ringraziamento anche se non avete visto l'azione ma soprattutto voglio fare i nomi non diciamo le istituzioni alle quali appartengono perché se no faccio promotion diciamo si dice pubblicità diciamo come si dice pubblicità occulta quindi insomma allora Alessio che ci ha seguito insomma su questa cosa qui in tutto e per tutto insomma a livello operativo a livello operativo a livello di insomma ci dava i tempi delle scadenze e quindi insomma grazie Alessio alla quale chiedo di fare un applauso che sta lì giù a Irene che l'ha sopportato perché che aiutava insomma brava Irene e a Maria Rita che mi manda ci messaggi a mezzanotte che mancavano insomma la tabella delle spese da rendicontare e quindi ci strassava sempre di più per stare in conformità con le regole date dal coordinatore grazie a Maria Rita e da ultimo vabbè gli italiani non ci vediamo tutti i giorni magari no ma un grazie insomma ai colleghi lituani per essere venuti in Italia sapiate siete sempre benvenuti non abbiamo la vostra vodka io ho provato un giorno a competere con la vodka italiana contro la vodka lituana ho perso 10 a 0 però insomma pensavo che fosse la grappa invece no insomma ognuno ha i suoi prodotti grazie Matt e Xavier avete fatto un lavoro non a supportare ma a sopportare insomma tutti noi a cercare di coordinare un po' tutti i lavori insomma da un po' di vista tecnico no ma anche diciamo finanziario l'università diciamo Carlos III di Madrid se mio figlio un giorno mi dirà che vuole venire a studiare a Madrid sicuramente gli raccomando la vostra università e poi va bene Marco ti voglio bene insomma grazie per l'aiuto e anche anche Flavio insomma per tutta insomma la parte di supporto non solo per quanto riguarda il tuo ente insomma il CREA ma ci hai anche aiutato sul nostro lavoro che non dipendeva e competeva a te ma l'hai fatto grazie Flavio allora qualsiasi cosa qualsiasi idea avete le mail di Matt potete scrivere a lui e poi insomma lo facciamo circolare perché così alla fine insomma riusciamo anche a mettere su nel rapporto finale che sarà diciamo consegnato il 31 marzo più o meno o comunque nei primi di aprile affinché potremo vendere anche spunto di questo workshop e mettere dentro che il workshop ci sono stati insomma anche delle idee che metteremo nelle porti finale e rimarrà lì scritto nella pietra grazie ancora a tutti per la partecipazione grazie 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 grazie